Possiamo avviare il convegno, ho invitato Francesco Loci, che è stato anche un nostro lettore e attore nelle nostre feste della mia parola, ieri ne abbiamo fatta una proprio al San Valentino, è andata magnificamente e vorrei spiegare un attimino perché l'ho invitato a leggere il capito delle 32. Intanto perché il capito delle creature ha tutte le fonti di energia, c'è il sole, c'è anche per esempio la luna, c'è l'energia mareomotrice che veriva appunto dalle maree e quindi la causa delle maree, per esempio di Calidei, si hanno scoperto che fosse proprio una luna, anche se Calidei non credeva in questo, però questo può fare in un'altra persona, ci dedicò pure colpa, perché lui era convinto che nel caso delle maree fosse solo visita alla rotazione della terra. E questo creava un disfidio perché lo scrisse in un libro e mi sembra un po' più a semplicio, nel famoso pregiudizio Galilean perché pensava che l'impulso della luna sulle maree potesse essere qualcosa di assologico, e quindi per questo motivo lui lo volete dare. Invece aveva ragione il Papa che però si era più a ripetersi di scritto, come si dice, nel libro del 2000. Questo è un altro discorso. Noi proprio abbiamo cominciato con un Paolo Mastro Matteo che ci sta seguendo online. Il primo convegno è stato il 12 ottobre del 2013. Cominciamo proprio con la lettura del cambio delle creature. Il convegno si chiamava l'energia della fabbrica in metallo, un metallo che lo parla dell'energia. si parlavano delle nuove neogene, parleremo ancora di un po' 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 di un po'. Buongiorno Uvaldo. Uvaldo scusa, approfitto di te per capire se ci senti. Ci senti Uvaldo? Sì, ti sento. Tu mi senti? Quindi praticamente iniziamo con questa lettura del cambio delle creature che Francesco ci farà un attimo solo per questo la telecamera perché dobbiamo fare una registrazione della... Abbiamo una registrazione della... Abbiamo una registrazione della... Prego. Altissimo, Onnipotente, Bon Signore, Tu e sole laude, la gloria e l'onore e donne benedizione. Laudato sia, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messerlo, frate suo, nello quale è iorno e t'allumini noi per lui, ed ello è bello e radiante, con grande splendore. Da te, Altissimo, porta significazione. Laudato sia, mi Signore, per sora lì nelle stelle, in cellule formate, clarite, preziose e belle. Laudato sia, mi Signore, per fratevento e per aree nubile e sereno e donne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento. Laudato sia, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile ed umile e preziosa e casta. Laudato sia, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale è in allumini la notte, ed ello è bello e iocondo, e robustoso e forte. Laudato sia, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sostente e governa, e produce diversi frutti con coloriti flori ed erba. Laudato sia, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, e sostengo in firmità di tribolazione. Beati quelli che sosterranno in pace, che a da te, altissimo, si irano incoronati. Laudato sia, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccate mortali. Beati quelli che troveranno le tue santissime volontà, che alla morte seconda non farrò male. Laudate e benedicetemi, Signore, e ringraziate e serviateli con grande umilità. Grazie a te. Grazie a te. un convegno di logica e religione, se non sbaglio. Eh sì, sì, sì. Logica e religione, dove c'era anche l'industria Pier Giorgio Di Fredi, in un caso come te. E perché? Mi sa che c'è un po' di fischio. Allora, io oggi ti ho invitato a parlare sul simbolo dell'acqua e ti ho dato ampia facoltà di parlare, ma se vuoi anche divagare sull'energia, sulla pace e quant'altro hai licenza di uccidere. Zero, zero. Però, ecco, ti lascio, ti lascio parlare. Ando Lorenzo, lo so che conoscete, è il paroco di Mammole, è il diritto, ed è anche professore, ufficio ordinario. Stabile. Stabile, con questa è la teoria del mio docente. Stabile di filosofia, l'inizio di Oteologico di Assisi, che adesso però mi sembra che con Firenze non sta più con... Cioè, è in corso un progetto di unione con Firenze e non con la Lateranese, che stanno riprogrammando, riprogettando l'architettura delle facoltà teologiche in Italia. Ma non è ancora con più? No, no, non è ancora con più. Non è ancora con più. Bene, te la parola, prego. Grazie. Grazie Claudio. Io sì, appunto, sono il paroco delle acque, forse per questo mi... Le acque di Terni, perché sono diventate la propria. In effetti, volevamo farlo più lungo, poi ci siamo detti, più lungo, febbraio, forse non è il caso. Al nove. In qualche altra occasione, verremo ospiti, anche così, in ristruttura, accettiva. C'è, 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 una sala per fare una conferenza, certo. Ecco, io in realtà è stato molto bello, emozionante questa lettura del cantico. Anche io volevo partire da una lettura, che sarà... non ho le qualità artistiche di Francesco, però... Penso che possa essere utile per provare a sviluppare questo argomento della simbologia dell'acqua, che, come ogni argomento che tratta di simbologia, è estremamente ricco. La simbologia dell'acqua si può affrontare da tantissimi punti di vista, diciamo che è uno dei simboli, degli archetipi fondamentali dell'essere umano, dell'umanità. L'albero, l'acqua, la montagna sono proprio le basi del nostro concepire simbologico. Allora voglio leggere un brano tratto dal libro di Giobbe, molto famoso sia il libro di Giobbe, che non mi dilungo a spiegare, sia questo brano che inizio direttamente a leggere. Puoi tu pescare il Leviathan con l'amo e tenere ferma la sua lingua con una corda, ficcargli un giunco nelle narici e forargli la mascella con un gancio? Leviathan è un mostro acquatico, è una gigantesca balena, un gigantesco drago acquatico, che si ritrova tra le immagini della Bibbia. Ti rivolgerà il Leviathan forse molte suppliche e ti dirà dolci parole? Stipulerà forse con te un'alleanza perché tu lo assuma come servo per sempre? Scherzerai con lui come un passero legandolo per le tue bambine? Faranno affari con lui gli addetti alla pesca e se lo spartiranno i rivenditori? Crivellerai tu di darti la sua pelle con la fiocina la sua testa? Prova a mettere su di lui la tua mano, al solo ricordo della lotta, non riproverai. Ecco, davanti a lui ogni sicurezza viene meno, al solo vederlo si resta abbattuto. Nessuno è tanta audace da poterlo sfidare, chi mai può resistergli? Chi mai lo ha salito e ne è uscito illeso? Nessuno sotto ogni cielo. Non passerò sotto silenzio la forza delle sue membra, né la sua potenza, né la sua imponente struttura. Chi mai ha aperto il suo manto di pelle e nella sua doppia corazza chi è mai penetrato? Chi mai ha aperto i battenti della sua bocca attorno ai suoi denti terrificanti? Il suo dorso è formato da file di squame saldate con tenace suggeri. L'una è così unita con l'altra che l'aria fra di esse non passa. Ciascuna aderisce a quella vicina, sono compatte e non possono staccarsi. Il suo sternuto irradia luce, i suoi occhi sono come le palpebre dell'aurora. Dalla sua bocca erompono vampate, sprizzano scintille di fuoco. Dalle sue narici esce fumo come la caldaia infuocata e bollente. Il suo fiato incendia i carboni e dalla bocca gli escono le fiamme. Nel suo collo risiede la forza e innanzi lui corre il terrore. Compatta è la massa della sua carne, ben salda su di lui e non si muore. Il suo cuore è duro come pietra, duro come la macina inferiore. Quando si alza si spaventano gli dèi e per il terrore restano smarriti. La spada che lo affronta non penetra, né lancia né freccia né dà. Il ferro per lui è come paglia, il bronzo come legno dall'alto. Non lo mette in fuga la freccia, per lui le pietre della fionda sono come stoppie. Come stoppie è la mazza per lui e si fa beffe del sibilo del giavellone. La sua pancia è fatta di cocci aguzzi, fa ribollire come pentola al fondo marino, fa corgogliare il mare come un caldo di un gueto. Dietro di sé produce una scia di luce e l'abisso appare canuto. Nessuno sulla terra è pari a lui, creato per non avere paura. E gli domina tutto ciò che è superbo sinnalza, è sovrano su tutte le bestie e feroci. Ecco, naturalmente questa bellissima descrizione della Bibbia non corrisponde a un animale veramente esistente, dove sapete che il mare, l'acqua e da sempre stimola la fantasia dell'uomo per immaginare dentro di essa dei mostri fantasiosi, a volte terribili, a volte buffi. In realtà non è poi un'immaginazione così lontana, perché non so se vi è mai capitato di visitare un acquario. Io sono di La Spezia, quindi sono andato a Genova alcune volte. Infatti, effettivamente ci sono delle creature molto strane, molto particolari, che vivono soprattutto negli abissi. Ma non corrispondenti a questa immagine del Leviathan, quindi questa creazione simbolica, che cosa vuole rappresentare, se non rappresenta un animale naturale? Ecco, proviamo a osservare quindi quale può essere un percorso nella simbologia dell'acqua, che poi si ricollega, secondo me, anche nel rischio, qual è lo spirito del sogno americano, dell'esperienza americana, che ci piaccia o non ci piaccia, è oggi come oggi, lo spirito anche del nostro sogno e della nostra esperienza. Noi siamo una società che è legata a doppio o triplo filo, come vediamo a volte in modo anche drammatico, con l'esperienza americana. L'esperienza americana è venuta, nel bene e nel male, a surgere a epicentro dell'esperienza occidentale. Moby Dick è un romanzo straordinario che chiaramente è ispirato anche proprio esplicitamente a questo brano del libro di Giobbe. La Bibbia è la grande ispiratrice di Moby Dick, tant'è vero che i nomi dei protagonisti, dei personaggi che ritroviamo, sono tutti nomi estratti da qualche episodio della Bibbia, a partire da Ismaele, che è il nome del protagonista, chi è Ismaele nella Bibbia? È il figlio illegittimo di Abramo, quello che vaga errando per la terra. E così Ismaele si viene subito a identificare con ciascuno di noi, è lapidario all'inizio di Moby Dick, chiamatemi Ismaele. Diamo uno sguardo rapido, diamo uno sguardo rapido a questo incipit del romanzo, in cui il primo capitolo si chiama, in italiano viene tradotto qualcosa, appare in lontananza, e dà l'idea di una vedetta che guarda che cosa c'è all'orizzonte, che scrutta l'orizzonte. In realtà in inglese il titolo è molto più bello, molto più pregnante di questo primo capitolo, è Loomings, che significa un'apparizione, una visione, uno squarcio, un abbaglio di luce che però non si capisce bene che cosa rappresenta, ma attira la nostra attenzione. Quindi sfruttiamo qualche cosa. Chiamatemi Ismaele. Qualche anno fa, non importa quando esattamente, avendo poco o nulla in tasca, e niente in particolare che riuscisse a interessarmi a terra, pensai di andarmene un po' per mare, a vedere la parte cuorea del mondo. Quindi Ismaele, che siamo noi, è la persona in ricerca, la persona che ha visto qualche squarcio di luce, ma non sa bene come seguirla, si butta per mare, si butta nell'acqua. E in questo primo capitolo, da tutta una spiegazione, ora naturalmente non possiamo soffermarci, non possiamo dilungarci, ma è molto molto bello, come la gente viene attratta, viene attirata dall'acqua. Ma guardate, dice lui, sta descrivendo il porto dove si vorrebbe imbarcare, ma guardate, arrivano altri gruppi che marciano dritti all'acqua, come volessero tu farsi. Strano, niente vi soddisfa se non il limite estremo della terra. Poziare al riparo del vento, all'ombra di quei magazzini, non basta, no, debbono andare vicino all'acqua, quanto è possibile senza cascarci dentro. E poi fa un esempio che è anche molto piedilucano e marmorese, perché dice, fa vedere come tutte queste persone da cosa vengono attraverte, perché vengono, perché vengono a piedilucano, dice così ovviamente Melville, però l'idea che vuole esprimere è quella, perché tutti vanno verso i pozi d'acqua, vanno verso l'acqua, perché l'acqua possiede questa forza, questa forza magnetica, questa forza simbolica, che dice qualcosa al nostro inconscio, che dice qualcosa a noi, e ci attira. e che cosa naturalmente Ismaele va al porto per imbarcarsi, come sappiamo, su una baleniera, lei decide di imbarcarsi su una baleniera, perché? Perché questa baleniera, poi lui scoprirà, è a caccia del Leviatano, che sarebbe Moby Dick, quindi di questo grande mostro, ma mostro non dovete prenderla, e qui secondo me è un po' la chiave di lettura, che traspare anche dalle pagine di Moby Dick, mostro non dovrete prenderlo come qualcosa di terribile, spaventoso e basta, è anche terribile e spaventoso, perché abbiamo letto, abbiamo ascoltato le pagine del libro di Giove, ma è anche affascinante, è una balena come? Nera, no, è una balena bianca Moby Dick, e quindi questo bianco, poi Melville, diamo un'occhiata con le due righe, la descriverà come un essere bianco elegantissimo, che si muove in quest'acqua azzurra, allo stesso tempo rappresenta anche il fascino, la bellezza, l'eleganza dei pesci, dello specchio azzurro delle acque, ed è un'eleganza, una bellezza che è anche quello che ci attira verso l'acqua, la bellezza del lago, la bellezza del mare. Quindi il nostro Ismaele si trova imbarcato su questa baleniera, circondato da un equipaggio, e questo equipaggio rappresenta tutta l'umanità, tutte le forze che si muovono dentro il nostro cuore, dentro il cuore dell'uomo, si potrebbe fare quasi una conferenza, sicuramente una conferenza per ognuno dei personaggi, non le descriviamo adesso, gli ufficiali, i marinai, l'amico indigeno Ismaele, ma il personaggio centrale del romanzo, i personaggi centrali sono Ismaele, senza dubbio, il primo che si presenta, che è il lettore, e poi ci sono le forze che si agitano nell'inconscio, nella profondità del lettore, cioè di noi stessi, che sono le forze che si agitano sulla barca e dentro l'acqua, Moby Dick naturalmente, e soprattutto il capitano Aqab, il famoso capitano Aqab, che viene descritto come un uomo duro, un uomo duro e determinato, è la forza, la forza con cui si affronta il pericolo della vita, determinato a fare cosa al capitano Aqab? A uccidere, a sconfiggere, a lottare contro Moby Dick per vincere. Leggiamo una brevissima descrizione che ci rende l'idea, sempre naturalmente tratta da Moby Dick. Se ne ampari il testo. Ecco qua. E non solo, quel triste Aqab stava davanti a loro con una crocifissione in faccia, con tutta la dignità augusta, imperiosa e indicibile di un grande dolore. Quindi viene descritto come un uomo duro, un uomo determinato, un uomo ferito, un uomo ferito, un uomo addolorato, un uomo crocifisso. Anche qui l'immagine biblica che ci richiama alla storia della Bibbia, alla storia del Vangelo, è molto chiara. E quindi anche il capitano Aqab, alla fine, è un aspetto di ciascuno di noi. È l'aspetto, è il nostro aspetto duro. È l'aspetto che evidenzia il nostro essere persone ferite da qualche cosa, da qualche dolore, da qualche abbandono, da qualche tradimento. Ciascuno di noi lo è, da qualche ingiustizia della vita. E allora come reagisce il capitano Aqab, quindi questo aspetto di noi, alla sua ferita? Reagisce con la violenza, volendo sottomettere, Moby Dick, cioè volendo uccidere e sottomettere questo grande mostro bianco che rappresenta che cosa? La vita. Ma la vita che cos'è? Non pensiamo soltanto alla nostra vita biologica. è tutta questa grande realtà, questa grande natura di cui facciamo parte, col suo bene e col suo male, col suo dolore e con la sua gioia, col suo buio e con la sua luce, con la sua bruttezza e con la sua bellezza. Quindi è la totalità dell'esistenza, Moby Dick. E come entra Aqab nella totalità dell'esistenza? Volendolo sottomettere. sottomettere. E allora, un'interpretazione possibile, no? La forza dell'acqua se viene a rappresentare la forza della natura, la forza che dà energia. E noi nella natura, dalla natura, abbiamo bisogno di estrarre l'energia. Questo, ovviamente, perché l'energia alimenta, sostiene la nostra vita. Ma con quale atteggiamento vogliamo estrarre questa energia? L'energia, prendertela nel senso più ampio, nel senso più lato possibile. Quindi, quella che serve ad alimentare riscaldamenti, correnti elettriche, ma anche quella che ci dà il cibo, che ci dà il nutrimento, che ci consente di vivere. Con quale atteggiamento noi estraiamo dalla natura? Prendiamo dalla natura questa energia? Con un atteggiamento violento di soprafazione, che non tiene conto, che vuole uccidere, alla fine, la natura, che non tiene conto del suo mistero? E questo è l'atteggiamento di Aqab. Ed è l'atteggiamento, tante volte, anche nostro, e della nostra società, e di tutta la società nostra, americana e occidentale. E quindi, che cosa succede poi ad Aqab alla fine del romanzo? Lo sappiamo tutti, viene ucciso lui stesso dalla ballena, viene divorato da questa grande ballena. è il simbolo della nostra società, che più vuole sfruttare, più vuole dominare, più vuole utilizzare la forza della natura, l'energia della natura, piegandola a se stessa, ai propri interessi, alla propria volontà di potenza, di soprafazione, e più questa energia gli si rivolta contro. Ora, per dettagli di questo, basta accendere la televisione, sentire un notiziario, non ve li fornisco io, pensiamo soltanto a qualcosa come l'uso dell'energia nucleare. E questo, proprio questo, è il peccato originale, cioè mangiare il frutto per se stessi, per il proprio egoismo, non per armonizzarci, non per fare qualche cosa insieme, costruire qualche cosa insieme agli altri uomini e alla natura stessa, ma per dominare, sopraffare e uccidere. Ha questa figura di Aqab, già nel romanzo, all'inizio però del romanzo, in quella scena meravigliosa di padre Meppol, che fa la sua predica, perché quando Ismaele va al porto e si vuole imbarcare sulla baleniera, prima va a cercare una locanda, poi il giorno dopo è domenica, e quindi va a messa. Va a messa in questa cappella, che viene descritta in un modo molto bello, molto affascinante, poi mentre dentro la cappella fuori scoppia una tempesta, per cui sembra di essere proprio come dentro una nave, quando infuria la tempesta. Questa cappella è la chiesa del porto, quindi è tutta arredata con pezzi di navi. e sbuca quest'uomo vecchio, marinaio, passato, diventato sacerdote, padre Meppol, che fa una predica tutta centrata sul libro di Jonah, del profeta Jonah. E la figura di Jonah il profeta, sì, è la figura che fa da contrasto, da contraltare al capitano Haka, chi è il profeta Jonah? Penso che un po' tutti ricordate la storia, il profeta Jonah vuole, in un altro libro della Bibbia naturalmente, all'ordine da parte di Dio di andare a predicare a Ninive. Ninive è una grandissima città, una metropoli di quel tempo, non ebrea, non erano, gli abitanti di Ninive erano pagani, non erano ebrei, però Dio ha compassione di loro e vuole fargli sapere che se continuano nella loro continuità, condotta perversa, nel loro peccato, Ninive sarebbe stata distrutta. Quindi si dovevano convertire e tornare, convertire, convertire, significa proprio tornare indietro, tornare sui propri passi e cambiare modalità di esistenza, modalità di comportamento. Jonah non ne vuole sapere di andare a predicare a Ninive in nessun modo, perché dice, intanto non sono ebrei, quindi a me cosa mi importa di andare a predicare a quei pagani? Prima cosa. Seconda cosa, io devo mettere a rischio la mia vita, magari la dico delle cose per cui mi imprigionano, mi uccidono, mi torturano, per quelli, ma non ci penso nemmeno, allora va su una barca, sale su una nave e si imbarca per la Spagna, quindi significa da Israele alla Spagna, voleva dire dall'altra parte del mondo, perché fuori delle colonne d'Ercole non si usciva, quindi dall'altra parte del Mediterraneo. E Jonah, che cosa accade? Che mentre fanno questo viaggio scoppia una tempesta che sta per affondare la nave, i marinai gettano tutto a mare per cercare di salvare la nave, ma non c'è verso che la nave sta per spezzarsi, a un certo punto Jonah, che ha capito il perché di quella tempesta, dice buttate a mare me. i marinai non volevano farlo, però prendono Jonah e lo buttano e immediatamente, su sua richiesta, e immediatamente la tempesta si placca. Jonah viene inghiottito da un pesce, ci dice la Bibbia che naturalmente il romanzo Moby Dick diventa una balena, viene inghiottito da una balena un po' come Pinocchio e come Geppetto e Pinocchio e passa il suo tempo nel ventre di questa balena. E che cosa fa Jonah? nel ventre della balena, quindi nel ventre delle viatane, nel ventre del mostro, cioè nel cuore della natura. Gesù stesso utilizzerà l'immagine del profeta Jonah e dirà nel cuore della terra. Che cosa fa? Lo leggiamo direttamente da questo bellissimo predica di Padre Memphor, come l'ha descritta Melby. Allora Jonah pregò il Signore dal ventre del pesce. Cosa fa dentro la pancia della balena Jonah? Preda. Ma notate la sua preghiera, dice Padre Memphor, e imparate una grave lezione. Pieno di peccati com'era, Jonah non piange né geme per ottenere subito la libertà. Egli sente che la sua terribile punizione è giusta. Lascia a Dio tutta la sua salvezza, contentandosi di questo, che malgrado tutte le sue pene e afflizioni, egli possa ancora vedere il suo santo tempo. E questo, compagno, è pentimento vero e pieno di fede, che non grida il perdono. E quanto piacesse a Dio questa condotta di Jonah lo dimostra la sua conclusiva liberazione dalla balena e dal mare. La balena va su una spiaggia e rilascia Jonah che torna libero. Torna libero e va poi a predicare a Nini, Venini ve si salva e questa è la storia. Compagni di viaggio, dice Padre Memphor, non vi metto davanti Jonah per copiarne il peccato, ma ve lo metto davanti come modello di pentimento. Non peccate, ma se vi capita, state attenti a pentirvene come Jonah. Quindi, che cosa fa Jonah? Jonah alla fine non si ribella al mostro. Viene divorato esattamente come il capitano Acaba. Quindi non è che la natura è tenera con lui più che col capitano Acaba, però lui cosa fa nella pancia del mostro? Cerca di sintonizzarsi, di mettersi in armonia, di utilizzare questo episodio non per sfruttare, non per dominare, ma appunto per cercare e seguire la volontà di Dio creatore che nel concetto biblico che appartiene sia alla Bibbia, naturalmente, che a Melville, del Dio creatore che è lui che sa, che ci indica, che ci guida, che ha progettato, che ha pensato la natura. Quindi sia attraverso la natura, sia attraverso la preghiera e la sua volontà, lui indica la strada giusta per porsi non in contrasto, non in sopraffazione, ma in armonia. Quindi Giona entra in armonia con le forze della natura, cioè con la creazione di Dio. Non la vuole sfruttare per il proprio egoismo e non per la propria volontà di potenza e predomino. E allora in questo modo la balena, il leviatano, è questo grande mostro che ci è apparso minaccioso e ribelle, sorprendentemente diventa un'immagine dello stesso Dio. Quindi la natura è Dio, la natura è come uno specchio di Dio, se la sappiamo utilizzare in questo modo, quindi come qualcosa di estremamente bello, di estremamente positivo. Non si ribella, non si rivolta più contro di noi. E allora la descrizione della balena di Moby Dick la prima volta che appare è questa, molto significativa, è inaspettata. Ora, in lontananza, alla fine, il primo capitolo del libro si dice da Lumix, visioni, squarci di luce in lontananza, alla fine quando appare Moby Dick appare proprio come una visione, come una luce in lontananza che piano piano si fa sempre più chiara e sempre più vicina. Sentite come la descrive questa prima apparizione Melvin. Una gioia mite, un'immensa dolcezza di riposo, nella velocità avvolgeva la balena in corsa. Nemmeno il toro bianco di Giove, quando nuotò via con Europa rapita che si aggrappava alle corde alle giadre, si covava la fanciulla di sbieco ammiccando con occhi amorosi, mentre intrespava le onde nel suolo, nel suo volo soffice e maglioso verso il rifugio nuziale di Creta, neanche Giove, neanche quel gran re eccelso superava la gloriosa balena bianca nel suo nuoto divino. La simbologia è chiara, la balena viene a rappresentare Dio. Da ciasco un fianco morbido, nel momento in cui l'onda spezzata lo lambiva appena e poi rifluiva via lontana, lucente la balena spandeva seduzione. Nessuna meraviglia che qualcuno dei cacciatori indicibilmente trascinato sedotto da tutta quella serenità avessi osato attaccarla, ma aveva fatalmente scoperto che quella quiete non era che la maschera dei ciclioni. Eppure tu balena così calma, così fascinosamente calma, vai nuotando per tutti quelli che ti vedono la prima volta e non sanno quanti nello stesso modo puoi averne già raggirati e distrutti. E così tra le calme serene del mare tropicale, le oltraonde in cui i battimani si incantavano nell'estasi, Moby Dick andava nascondendo alla vista tutti i terrori del tronco sommerso, celando del tutto l'orrore deforme della sua mandibola. Ci sono due aspetti di Moby Dick. Quindi Moby Dick è la natura come forza che distrugge, è la natura come Dio che salva. quindi sono questi due aspetti che sta a noi tirare fuori o se scegliamo la via del capitano Aqab o se scegliamo la via di scritta da padre Meppol del profeta Giona. Io mi fermerei anche se ho raggiunto il cuore. Grazie, grazie Don Lorenzo. Grazie a voi, grazie a voi. Una domanda al dono qualcuno vuol farla? Io veramente avrei tantissime cose perché la giornata mi porta proprio a fare tante riflessioni però ti chiedo solo questo tu condividi che non è l'uomo propone e Dio rispone ma è Dio propone e l'uomo rispone? Diciamo che certamente il primo passo della danza è quello di Dio che poi sta a noi se vogliamo danzare con lui o senza Dio. Alla fine questa è un po' la sintesi di quello che hai detto nel senso che toccando l'uomo proprio diciamo fare una scelta di vita su come anche sputtare l'acqua la pace l'energia che sono tre argomenti che ormai nessuno immaginava forse fino a qualche anno fa sono diventati argomenti geopolitici insomma significano per non vedremo adesso con la relazione anche a termine il Stato di termine insomma questo è proprio io ti ringrazio e chiedo ecco velocemente Sergio sta col microfono la prossima volta che vi speriamo la prossima volta sarebbe interessante se ci sarebbe interessato a progetti di la figura di l'acquisto di l'acquisto allora per dire due parole la figura Ismaele io la interpreto così genericamente poi chiaro si potrebbe fare una conferenza solo su cui questo suoni abbiamo vi dico è un romanzo straordinario è uno dei grandi romanzi della nostra letteratura della nostra epoca no il fatto è che Ismaele viene a rappresentare appunto come ho detto secondo me ciascuno di noi proprio il lettore che si immedesima nel romanzo e allora lì è interessante volevo dire due parole anche su quello ma poi ci prenderebbe troppo tempo la rappresentazione jungiana dell'acqua come figura dell'inconscio di ciascuno di noi ma il discorso è sempre quello dove alberga il bene e il male quindi sta a noi riuscire a distillare diciamo così per parlare molto genericamente il bene dal male grazie grazie Don Lorenzo che hanno subito Carla Carla Pagliari che conoscete tutti direttore del Tevere Mera e che oggi viene però non tanto come direttore ma quanto come scrittrice perché anche lei ha scritto un libro molto significativo al convegno di oggi buongiorno e grazie grazie anche a Don Lorenzo per questo bellissimo intervento il mio intervento è appunto su questo libro che ho scritto che è una favola una favola sul nostro fiume sul fiume siccome io lavoro al consorzio di bonifica Tevere Mera e ho a che fare tutti i giorni con il nostro ambiente con il nostro fiume sono fortunata a fare questo lavoro perché l'acqua è bellezza e questa bellezza ci riporta un po' alla tranquillità alla pace nel nostro cuore e quindi da questo concetto di acqua e da questo mio lavoro è nato un sogno veramente ho sognato insieme che mi ha parlato mi ha parlato e mi ha raccontato tutto ciò che accade quando rimane solo quindi tutto tutto il lavoro che noi facciamo sul fiume durante la giornata l'attenzione che poniamo al fiume viene poi distrutta di notte da qualcuno che lo aggrandisce e quindi che cosa accade in questa favola che una bambina poco più grande di questa bambina che è seduta in prima fila una bambina riesce ad avere un rapporto speciale con il fiume perché questa bambina è così fortunata perché ha un nonno che sin da piccola l'abitua ad osservare la natura e ad osservare il fiume a farle immaginare quanto possa essere bella la vita che si svolge sotto il fiume con i pesciolini che sono amici fratelli che si aiutano che osservano e quindi questa bambina coinvolge tutti i suoi amici i genitori tutti gli abitanti di un piccolo paese ma a cosa serve questa faula che è rivolta ai bambini ma soprattutto ai genitori perché i bambini hanno bisogno di essere istruiti formati hanno bisogno di essere aiutati ad osservare l'ambiente a diventare sentinelle della natura sentinelle dell'ambiente loro dove vivono io sono andata in qualche scuola con i bambini e abbiamo visto che i bambini non sono abituati ad osservare i parciapiedi per esempio nel loro palazzo non sono abituati ad osservare il giardino dove vanno puntualmente a giocare quindi è una responsabilità grande che hanno gli adulti i genitori gli educatori i nonni perché abbiamo una responsabilità grande nei confronti della natura che come metteva bene in evidenza Don Lorenzo poi alla fine si ribella si ribella con i cambiamenti climatici in corso noi abbiamo affrontato una stagione molto difficile lo scorso anno con una grande siccità un'estate caldissima probabilmente l'estate prossima sarà ancora più calda perché i presupposti attuali lasciano pensare proprio che dovremo affrontare un'estate altissima l'anno scorso rispetto allo scorso anno i dati gli elementi che abbiamo a disposizione sono di una riserva d'acqua meno 40% quindi dobbiamo attrezzarci dobbiamo veramente apprezzare questa questo elemento così importante che è l'acqua senza il quale perdiamo la nostra pace interiore e la nostra tranquillità tornando alla favola la bambina della favola si chiama Lilla questa bambina a un certo punto parla con il fiume e vorrei ecco leggere un piccolo passaggio molto breve del fiume che si rivolge alla bambina grazie Lilla e ogni volta che vieni a trovarmi diceva il fiume sento il tuo interesse per me e il tuo affetto non immagini quanto ho bisogno di attenzioni soffro molto per il comportamento di qualche persona nei miei confronti perché alcuni gettano nelle mie acque trasparenti rifiuti di ogni tipo fino a rendermi torrido pensa tu buttano secchi piedi di intonaci ai ai che dolore barattoli di vernice che ha un odore nauseante da farmi venire il volta stomaco pezzi di ferro arrugginito che mi fanno restiare anche infezioni tanti bastoncini cordonfiotte mascherine igieniche per non parlare poi di cose molto grandi devi sapere che anche Pietruggio il bottegaglio a cui tanto tu vuoi bene perché vende a tua nonna i formaggini di cioccolato ha tagliato con il cemento il mio argine per costruire una parete della sua bottega no non è possibile tutto questo e poi continua questo dialogo il messaggio di questo libro è proprio quello di far capire ai più piccoli e anche ai più grandi quanto è importante la formazione perché gli amici di Lilla andranno tutti a fare dei lavori che hanno a che fare con l'ambiente oppure diventeranno volontari volontari di bene volontari di costruzione di una di un rispetto per la natura da poter tramandare ai ai nostri figli ai nostri nipoti perché questi bambini così piccoli che avevano avuto a che fare proprio con il fiume attraverso la loro maestra avevano trasformato il fiume era diventato vitale era diventato un luogo di lavoro un luogo di divertimento una palestra non ci hanno aperto io invito sicuramente i presenti dimostrano già molta sensibilità essendo qui questa mattina ad ascoltare ad affrontare un argomento di questo tipo io lo affronto in modo leggero questa favola però voglio invitarvi a vivere il nostro fiume era perché noi abbiamo una grande fortuna Terni è una città rittissima d'acqua e come dice Don Lorenzo io sono parlo delle acque mi definisco in effetti è una giusta definizione perché abbiamo la fortuna di avere una cascata abbiamo la fortuna di avere un fiume ricordioso cerchiamo di non farci sfuggire questa grande energia e utilizziamola al meglio non solo scontandola come è un po' accaduto come è nata un po' la città di Terni ma godiamone anche tutta la bellezza vi auguro una buona mattinata e per chi vuole una buona lettura con questa favola una favola che voglio fare vedere vorrei solo aggiungere una cosa scusami io ho venduto molte toglie di questa favola direttamente e i proventi vanno in beneficenza fino a questo momento diciamo ecco ho contribuito con due parrocchie una di Terni e una di Nandie con il banco alimentare bene io volevo ringraziare Carla il libro si chiama Villa parlare con il fiume lo si trova anche ovviamente e grazie anche perché con le tue parole nonostante i problemi di siccità che ogni anno forse va sempre peggio comunque in questo territorio ci sentiamo un po' più tranquilli perché il problema ideologico viene comunque sotto controllo quindi grazie per il lavoro tra i tuoi colleghi perché forse la gente non si accorge ma se non viene gestita l'acqua se non viene gestita il territorio sono guai per tutti possiamo dire questa cosa ma questo sicuramente aggiungo se posso che il centro città era ad alto rischio idrogeologico e avete visto i lavori che sono stati fatti dalla scuola dei Fibis fino a Maratta al ponte del Cavaltavia che la città è stata messa tutta in sicurezza aggiungo anche che tenuto conto della pandemia tenuto conto della guerra in corso l'Italia sta andando cercando di arrivare ad un'autosufficienza alimentare senza acqua senza agricoltura questo non si può tenere e noi abbiamo garantito l'acqua a tutti i nostri agricoltori e stiamo lavorando perché non ci siano perdite d'acqua per avviare gli invasi che già abbiamo e costruirne altri perché è molto importante recuperare l'acqua violana come avrete visto ormai le biorge sono molto diciamo avvengono in pochissimo tempo e quell'acqua va raccolta non può essere sciupata e poi diventa anche un pregolo quindi si trattiene l'acqua per evitare che ci siano troppi danni che viene utilizzata per un'irrigazione a boccia quindi stiamo ci stiamo dando molto da fare proprio perché in termini è una città molto vita l'acqua la città sono un grande allora certo grazie grazie molto grazie buongiorno 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 a tutti ci vengo a ringraziare il signor Pace e i miei padri che mi hanno permesso di stare qui la mia moglie mi ha sopportato in questo genere avrei piacere di iniziare questo discorso mostrando quattro foto una via o l'altra possiamo scoprire l'udificio Centurini 1855 se stanno chiedi prendi un microfono se non ti sentiamo l'udificio Centurini scusate l'udificio Club 1855 l'udificio Centurini 1879 acciaglieria fabbrica d'armi 1875 Safat 1879 perché ho voluto mostrare queste foto perché sin da quando sono ragazzo andando fuori Terni andando in altre città e mi chiedevo a dove vieni da Terni a città dell'acciaio città dell'industria e diciamo che la città parlando degli anni 90 era principalmente conosciuta per questo motivo e questo lavoro nasce dalla necessità di mostrare in verità che Terni è molto più è una città che ha una storia estremamente profonda estremamente antica che non parte dalla seconda rivoluzione industriale ma da molto molto prima questa è la mappa del Murtì una veduta aerea del 1663 guardate quanto è bella la città grandi mura giardini campi e soprattutto una cosa che era molto evidente che si nota moltissima era ricchissima di acqua era completamente circondata di acqua come sappiamo abbiamo tre grandi filtri fonti d'acqua costante abbiamo il Serra il Nera e il Velino e questa grande presenza questa grande risorsa che era estremamente abbondante ha fatto in modo che mi rita l'origine di Terni come sappiamo avviene da molto prima del Murtì da un po' voluto sabino in archi che si erano stanziati nella valle del Nera per quale morire proprio perché c'era acqua i povoli in quel periodo cercavano distanziarsi presso corsi di fiumi dove comunque sia c'era ricchezza della cura terra era fertile e infatti il popolo Umbro-Sarbino era composto da agricoltori e guerrieri poi con la totale assoggettazione all'impero romano avremo le prime opere di canalizzazione le prime opere di salvaguardia del territorio viene bonificata si cominciano le bonifiche e nel 271 avanti Cristo avremo grazie a Mario Puro Tentato come molti sanno la creazione della cascata delle marmore che è la più grande cascata la più alta cascata a livello europeo ma soprattutto è artificiale immaginate l'opera colossale che è stata eseguita e già all'epoca abbiamo Pino e il Vecchio parla del territorio dei terreni soprattutto della città di Terni dicendo che l'erba doveva essere tagliata almeno quattro volte l'anno oggi è un processo semplicissimo ma all'epoca era una cosa estremamente lunga e faticosa anche perché veniva fatta a braccio e nonostante questa grande fase questa grande presa di coscienza dell'impero umano abbiamo la costruzione delle mura verrà ampliata la città diventerà un forte eppure con le invasioni barbariche questo sviluppo si arresta drasticamente abbiamo una crisi demografica enorme la città si spopola totalmente perché è semplice Terni era posta all'interno di un anfiteatro naturale la conta con una di un anfiteatro e posta in piano quindi la rendeva totalmente indifendibile infatti verrà praticamente abbandonata le mure romane verranno completamente distrutte non rimane quasi assolutamente nulla eppure con il passare del tempo ma soprattutto con una fase di un periodo molto importante che sarà XIII, XIV e XV secolo periodo in cui abbiamo l'avvento dei comuni un periodo di grande cambiamento la città dalle riformanze perché fondamentalmente il mio lavoro si è concentrato sulle riformanze che erano le riunioni del comune e vediamo che avviene un cambiamento enorme c'è una ripresa economica c'è una ripresa sociale la città si ripopola e cosa è evidenziato cosa è evidenziato semplicemente vengono ricostruite le murane abbiamo la città si sviluppa perché? semplicemente per un fattore le acque terni aveva era composta principalmente da un'economia all'epoca agraria cioè coltivavamo grano e olive molto olive e avevano tanta acqua e quindi non possiamo raccontare la questione le fonti erano di due tipi fondamentalmente erano quasi tutte artificiali tranne i fiumi principali Serra, Nero e Belino avevamo il Cervino e il Sersimone che erano due due canali molto antichi di epoca romana ma e la loro funzione che poi verrà specificata dal comune stesso all'interno dello statuto era irrigua cioè venivano utilizzati solo e soltanto per irrigare i campi perché comunque sia l'acqua del nera era estremamente fertile rendeva le terre estremamente fertili i campi erano veramente ricogliosi l'angelone storico del XVI del XVII XVI dirà che Terni era meravigliosa perché dagli alberi potevano raccogliersi ogni qualsiasi voglia frutto quindi guardate bene o male sia l'angelone che Pino il vecchio dicono la stessa cosa e l'altra qual era? l'usare lo sfruttare però sfruttare non è proprio il termine esatto le risorse dell'acqua come forza motrice alla fine del XVI secolo Terni contava ben 61 mulini e alla fine e all'inizio del XX secolo ne contava 124 ancora in funzione quindi questi sono numeri enormi soprattutto nel XV secolo Terni non è a caso era da questo punto di vista era ricca quanto Firenze aveva una potenza idrica enorme però non è stato un sfruttare così senza organizzazione senza senza delle regole ben precise dal 1397 in poi avremo nelle riformanze una serie costante e continua di prese di coscienza del comune che verranno inserite all'interno dello statuto scritto precisamente l'acqua era totale proprietà del demanio pubblico poteva essere controllata gestita soltanto dal comune stesso non potevano essere fatte costruzioni escavazioni o modifiche dei canali soprattutto del Cervino e del Selsimone ma della forma molendinorum la forma delle morelle raggio vecchio raggio nuovo e questi sono solo i principali perché in realtà erano numerosissime le deviazioni che verranno costruite nel giro di tre secoli e questa presa è stata il comune stesso attraverso il potestà e i capitani del popolo a dare via una serie di riforme che consentiranno uno sfruttamento intensivo efficace ma soprattutto rispettoso perché c'era una cosa avevano coscienza l'acqua era fonte di vita ma anche fonte di morte veniva sfruttata ma veniva anche rispettata nella riformanza della fine del XIV secolo si legge che venivano nominati dodici riguardadores ed altrettanti curadores cioè erano delle persone prese dal popolo nominati dal priori e dai capitani del popolo che sistematicamente dovevano andare a controllare lo stato dei cozzi d'acqua come erano gli arci come si trovavano se erano messi bene se dovevano essere fatte delle opere di ristrutturazione che venissero sfruttate nel modo in cui era specificato o per irrigazione e solo per irrigazione o per mulini per macinare grano e solo per macinare grano o per mulini per macinare olive e attenzione olive è importante perché sarà la fine verso la metà del XV secolo verrà richiesto l'ampliamento della coltivazione di olive e successivamente verrà concesso la costruzione di mulini per olive quindi l'economia agraria e della macinazione sono strettamente collegate tra loro però tutto doveva avvenire secondo consenso del comune il comune dava o una struttura già esistente da ristrutturare di proprietà del comune stesso ad un privato queste sono formule che andavamo modificandosi nel tempo dava a un privato la possibilità di ristrutturare o costruire un mulino in un determinato punto specifico lasciava la spesa totalmente al privato il quale avrebbe inizialmente nella prima riformanza del 1437 viene concessa per 41 anni che è l'unica che aveva trovato così lunga anni in secondo cui il privato sarebbe rientrato della spesa avrebbe tratto un guadagno successivamente verrà concessa come minimo dai 10 ai 15 anni però l'importante era che il privato sarebbe rientrato dei soldi che lui aveva speso alla fine del contratto il mulino diventava di proprietà specifica solo e soltanto del comune stesso quindi come vediamo abbiamo una presa di coscienza importante cioè lega la città strettamente all'acqua all'utilizzo dell'acqua stessa e vorrei fare anche un'altra abbiamo anche un mulino che verrà debito alla macinazione di pigmentum ad un certo Giorgio Mastro Pittore quindi macinavamo anche pigmenti in alcune situazioni probabilmente è bello aver sentito anche prima adesso di quanto sia importante l'acqua ma di quanto lo è stata per l'uomo ma di quanto lo è stata per la città di Terra e grazie a lei che questa città si è sviluppata e è diventata una delle città più importanti soprattutto per la sua vicinanza allo Stato Pontificio era molto tenuta in considerazione ma anche sotto controllo non dimentichiamo che noi eravamo nelle città limitrofea la nostra Todi Amelia Narni Spoleto tutte città Guelfe Terni invece è sempre stata una città chibellina e si è sempre un po' ribellata a questa autorità e a questo controllo ma è stata proprio questa ricerca dell'indipendenza che ha dato il movimento a questo sviluppo che ha dato il via a questo utilizzo massivo e oculato delle acque poi dopo abbiamo avuto un periodo diciamo di 200 anni in cui lo status quo si è mantenuto fermo quasi perché com'è possibile fino alla fine del XVI secolo Danny era un moto continuo non si fermava mai si sviluppava cresceva noi abbiamo cinque porte l'antica città aveva cinque porte non ne aveva quattro perché perché c'è stata la necessità di ampliare le mura proprio per proteggere questa zona bassa perché come vedete è ricca di cambi estremamente fertile le volevano difendere dagli invasori ma anche chi le voleva sfruttare in modo errato e poi però fondamentalmente sono stati 200 anni in cui tutto si è fermato non è si è fermato ha continuato ma è rimasto fermo stabile non si è evoluito fino a che sempre le sue caratteristiche sempre le sue le sue grandi risorse durante la seconda rivoluzione degli industriali in quello che era una situazione di grande cambiamento per la penisola avevamo Terni ritorno al centro degli interessi e soprattutto nella visione di un uomo di Vincenzo Stefano Preta che vedeva Terni come la Manchester d'Italia perché come era possibile questo perché semplicemente la disponibilità di acqua che noi avevamo e abbiamo ancora oggi perché l'economia attuale è ancora ancorata a quello era in grado di sviluppare 200.000 cavalli di vapore erano enormità tanto che è stato fatto il recentino il canale recentino che era quello da cui veniva quelle industrie che ho nominato prima si alimentavano produciano la propria energia elettrica però c'è stato un cambio di visione mentre prima l'acqua era amata e rispettata era amata e tenuta era fonte di vita e fonte di morte perché fondamentalmente avevamo forse le tecnologie e il moto ma non avevamo rispetto della natura la utilizzavamo ma la curavamo anche come ho detto prima la nomina dei riguardadores e dei jugadores era quello controllare gestire e assicurarsi che tutto fluisse nel modo corretto nessuno doveva scaricare calcio o altri materiali all'interno dei corsi d'acqua andavano rispettati siamo passati a una visione totalmente opposta con la rivoluzione industriale l'uomo al centro del mondo l'uomo che deve sfruttare la natura e dominarla senza riguardo e purtroppo ha creato dei danni enormi abbiamo delle situazioni in cui all'epoca dei disboscamenti massivi e delle alluvioni i fiumi verranno inquinati in modo esasperato proprio perché non c'era rispetto fortunatamente viviamo in un'epoca adesso in cui questo rispetto che stiamo rendendo conto la natura ne ha bisogno noi ne abbiamo bisogno e è bello vedere comunque sia questo grazie grazie allora io intanto ringrazio Claudio per l'invito per la partecipazione anche a questo convegno è sempre un piacere insomma intervenire all'interno di un convegno che mette insieme anche tante competenze tanti punti di vista e questo è sempre molto molto gradevole molto importante io credo sono qui appunto a portare un punto di vista forse diverso un punto di vista forse anche poco conosciuto la mia relazione appunto si intitola iconografia musicale sulle sponde del mera faccio una piccola premessa su questa iconografia musicale ancora più vicina allora si tratta di una disciplina un po' particolare perché è una disciplina che intanto è una disciplina del del settore musicologico questo ci tengo a dirlo perché è proprio il cuore di questa di questa scienza guardare alle immagini della della musica alle raffigurazioni musicali da un punto di vista particolare e allora parlando con Claudio appunto mi era venuto in mente di fare così di proporvi una specie di piccolo viaggio iconografico legato al fiume che appunto vi appartiene al fiume al fiume nera e attraverso una carrellata di immagini poi magari mi fermerai tu appunto a un certo punto se andrò troppo 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 avanti torniamo un attimo indietro scusa la cartina ecco questo è il percorso molto sinteticamente il percorso di questo nera fiume madre fiume materno come in tanta letteratura dal 3 al 900 ora non mi soffermo su questo ma viene definito proprio appunto con l'immagine della del fiume madre quindi un fiume al quale il territorio è fortemente legato con il quale il territorio si identifica qui sono elencati come dire i punti principali le tappe principali del percorso del nera e allora volevo proporvi una serie di immagini legate a questi a questi territori attraversati dal nera tutte con riferimento al punto musicale ora è chiaro che non è così frequente trovare immagini musicali nelle opere diciamo che io me ne sto occupando anche perché questa è una ricerca che viene condotta appunto all'università di Bologna nel campus di Ravenna che ormai dura va avanti da tanti anni proprio sulle presenze iconografico musicali nella nel nel l'Umbria meridionale ma in particolare questa zona è una zona di ricchezza eccezionale perché ripeto non è così scontato trovare immagini con questi con questi soggetti allora ve ne volevo far vedere alcune anche per farvi capire la tipologia e lo spessore anche di queste raffigurazioni il senso che può avere trovarne ecco partiamo proprio dalla dalla fonte del 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 fiume qui siamo a Castel Sant'Angelo su Mera con astero di San Liberatore guardate questa questa immagine nell'arco presenta angeli musicanti sono dei particolari che possono magari sfuggire anche così o essere considerati dei semplici elementi decorativi ma è raro è veramente raro che l'artista utilizzi l'immagine musicale solo come elemento decorativo qualche volta accade qualche volta diventa un cliché però in genere c'è sempre un significato dietro un determinato utilizzo ma soprattutto quello che è fondamentale è il modo in cui l'artista ritrae il soggetto musicale è il modo in cui ritrare lo strumento è l'ensemble che 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 evoca attraverso attraverso l'immagine è il modo di comunicare la sonorità l'ambiente sonoro l'ambiente musicale a cui fa riferimento e a cui fa riferimento evidentemente anche il viaggiatore il visitatore perché qui appunto siamo su un percorso legato all'acqua e quindi un percorso legato ai peligrinaggi legato anche alle ai cammini con tappe ospitaliere dove appunto si fa ospitalità e quindi l'immagine assume un significato che va anche oltre la semplice la semplice decorazione allora guardiamo qualche particolare per esempio per darvi un'idea della cura e dell'accuratezza che guardate questo lito per esempio come è raffigurato con una grandissima cura purtroppo l'immagine è sì l'immagine è quella che è aspetta forse se lo so si vede poco però il capigliere per esempio è accuratissimo la postura delle mani la posizione delle dita è estremamente accurata oppure guardiamo se non erro ho messo anche ecco guardate i due strumenti a fiato forse c'è anche un'altra successiva d'immagine guardate guardate l'attura di questi strumenti come sono particolari qui fuori la posizione delle mani sono due doppi doppi flauti uno però a forma circolare una forma codica diciamo l'altra più squadrata due elementi che sarebbe uno spreco non studiare dal punto di vista proprio organologico cioè per quello che presentano come memoria come documento di una realtà sonora ben precisa che fa riferimento a un utilizzo anche strumentale ben preciso qui purtroppo siamo in una zona grazie siamo in una zona così si vede molto meglio siamo in una zona che è stata fortemente violata dal terremoto e quindi purtroppo questa gran parte del materiale del monastero di San Liberatore purtroppo è andato anche per tutto il monastero benedettino anche questo ha un suo significato però ecco vi ho messo un'immagine successiva solo per dare un'idea di come anche il terremoto possa poi portare con sé qualcosa diciamo così di positivo perché durante il restauro in un'altra chiesa di San Sant'Angelo sul Nera è stato ritrovato questo sfresco non ha elementi musicali ma per dire è crollata la pala del Seicento ed è venuto fuori questo sfresco più antico andiamo avanti allora ecco per esempio qui ho ricordato Borgo Cerreto siamo appunto in questo percorso che avete visto prima sulla cardina vi ho messo questa immagine che è classica immagine col Cristo nella mandorla per darvi un'idea di come anche un semplice elemento come può essere questo è il giudizio universale come possono essere le due trombe del giudizio assumono la loro importanza se analizzate anche dal punto di vista proprio della fisionomia del ritratto dello strumento trovarle in una certa posizione e anche in contesti alle volte invece estranei al tema del giudizio qualche volta in quest'area per esempio li ho trovati addirittura collegati all'immagine della crocifissione che è cosa rarissima ha un significato molto molto forte e diventa connotativo anche di una certa tradizione di scuole di pittura famiglie di pittori che utilizzano questo elemento iconografico in maniera insistente andiamo ancora avanti vediamo ecco arriviamo alla splendida spettacolare ballo di nera che voi conoscerete meglio di me un gioiello vero e proprio recentemente restaurato e questa chiesa dal punto di vista iconografico musicale è veramente uno strigno ha un patrimonio eccezionale che merita degli studi estremamente approfonditi proprio da questo punto di vista vediamo l'interno ecco qui abbiamo appunto Nicola Di Pietro da Camerino Francesco Di Antonio da Ancona la dormizio questa è nella nella parte absidale nella parete sinistra dormizio virginis e assunzione guardate anche qui i particolari guardate questo liuto guardate il cavigliere guardate l'accuratezza nella posizione anche della mano che forse sta utilizzando anche il piccolo plettro non sono angeli dipinti con strumenti casuali con strumenti citati a memoria sono delle effettive riproduzioni create col dettaglio e con la volontà appunto di fare riferimento a un'espressa situazione non solo idoneologica ma sonora questo è l'aspetto fondamentale vediamo se ho messo anche l'altro dall'altra parte per fare un'idea no ecco questo è nella parte torno un attimo indietro scusa ecco nell'arco qui abbiamo l'assunzione della vergia abbiamo il sistema diciamo molto frequente e sempre quasi sempre connotato dall'elemento musicale anche per ragioni diciamo di tipo teologico abbiamo la sequenza dormizio dormizio ascensione e poi incoronazione qui l'incoronazione con ai lati qui non si vedono ai lati l'annunciazione che l'accompagna sempre qui l'incoronazione è molto molto rovinata e poi è andata perduta in parte per l'abbassamento del soffitto vedete anche qui ai lati l'utilizzo di strumenti guardate per esempio vediamo se ho messo il particolare di quello di sinistra è uno strumento eccezionale particolarissimo con una forma veramente molto singolare uno strumento che va studiato che non può non essere preso in considerazione proprio per ciò che rappresenta per il modo in cui viene rappresentato non è uno strumento comune le forme i modi le scelte i particolari che l'artista inserisce fanno capire che appunto non si tratta di un semplice elemento decorativo ma si tratta di qualcosa che fa riferimento a una realtà specifica che si vuole tramandare che si vuole ricordare al visitatore e poi quest'altro esempio veramente che io considero veramente straordinario qui siamo sulla parete laterale della stessa chiesa Cola di Pietro dipinge nel 1400 e firma nel 1401 la cocessione della confraternita dei Bianchi è un documento spettacolare dove noi abbiamo proprio la dimostrazione della prassi esecutiva realizzata da parte delle confraternite dei laudesi lì si vede proprio perché naturalmente per iconografia musicale intendiamo anche tutto ciò che allude alla musica e la lauda è canto ovviamente e si vede chiaramente dalla posizione e dalle bocche dei personaggi che stanno cantando e stanno cantando una lauda un documento veramente eccezionale mai si potrebbe pensare a semplici elementi decorativi o così di stile o di gusto così passeggero è tutto segnato per dare un messaggio preciso e anche per accogliere in una maniera particolare il visitatore o il pellegrino che sia andiamo avanti ecco vedete più da vicino i particolari guardate come sono guardate le bocche come sono proprio si vedono i denti proprio l'atto del canto proprio il ritratto espressamente l'atto del canto è una lauda per la madonna ovviamente per la legge e che epoca è? il 401 è da tanto questo è veramente eccezionale una testimonianza per la storia dei bianchi dei laudesi veramente straordinaria veramente straordinaria questa vediamo andando un pochino più avanti timore che il professor Celani mi faccia qualche allora scusa torno un attimo indietro perché passiamo arriviamo a Santa Anatolia di Narco Santa Anatolia di Narco scendiamo man mano e qui abbiamo un'incoronazione della Vergine questo è un raro caso di incoronazione senza strumenti però l'ho messa per far vedere come man mano che si scende sempre di più il tema dell'incoronazione man mano che si scende su questo percorso del nera è forte fortissimo molto molto marcato però in questa stessa chiesa Santa Maria delle Grazie che si trova un po' fuori ai piedi del paese ripeto voi conoscerete meglio di me queste zone andiamo avanti troviamo per esempio questa bellissima Madonna del Rosario più tarda naturalmente della fine del Cinquecento una bellissima Madonna del Rosario dove abbiamo anche qui due strumenti musicali che sono abbastanza rari come presenza iconografica legata al tema della Madonna del Rosario in genere li si può trovare se si è fortunati nella scena dell'incoronazione che incornicia il tema del soggetto della Madonna del Rosario si può trovare qualche piccolo elemento musicale qui invece è incardinato guardate anche qui guardate per esempio l'archetto la posizione il tentativo proprio anche di far vedere guardate la voluta dello strumento le anse molto patiolari è ovviamente è abbastanza come dire abbastanza popolare come immagine eppure nonostante questo c'è una accuratezza c'è l'uso del dettaglio che rende l'elemento assolutamente non non casuale non improvvisato forse ho messo anche l'altro strumento no no questo va bene saltiamo questo è rimasto era per far vedere un paragone ecco qua guardate anche questo Newton guardate come è accurato il il conticello ripete anche la posizione delle mani sulle corde guardate si vede che c'è un dito che che preme su una corda quindi c'è veramente un'attenzione estrema sono dettagli ma ovviamente sono dettagli estremamente significativi e capite bene che un modo di raffigurare un liuto diverso da un altro è estremamente significativo noi non abbiamo non abbiamo fotografie rispetto ovviamente alla alla tradizione quindi ci basiamo proprio l'iconografia musicale chiaramente è la fonte la fonte principale anche per la ricostruzione degli strumenti antichi questo è chiaro è anche abbastanza scontato ecco qui ancora siamo a Santa Anatolia di Narco forse questo l'ho fatto vedere in un'altra infezione perché parlando di altro è molto particolare siamo a caso ed è la cappellina nella chiesa della Madonna delle Grazie la cappellina più antica intorno alla quale poi è stata disponita la chiesa dove si richiama il miracolo dell'apparizione della Madonna a cavallo qui a sinistra c'è la Madonna a cavallo un'immagine molto particolare perché la Madonna a cavallo tra l'altro cavalca come se fosse un uomo quindi è stata studiata molto particolare e qui abbiamo il fanciullo che è il protagonista del miracolo lo ritroviamo qui sul letto probabilmente malato con un cartiglio in cui appunto fa una preghiera sperando nel paradiso e abbiamo l'angelo accogliuto questa bellissima figura dell'angelo che lo accoglie e questo ovviamente si lega poi a tutto un altro filone ma molto interessante appunto dell'angelo nel passaggio dal purgatorio al paradiso su quale adesso non ci possiamo soffermare però vedete anche qui un piccolo dettaglio e quel dettaglio per quanto piccolo è invece estremamente significativo di una tradizione che affonda le radici proprio nella 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 vittura medievale nelle raffigurazioni medievali anche legate alla tradizione dantesca quindi all'immaginario dantesco ed ecco qui siamo a Gavelli Santa Anadolia sempre del Santa Anadolia di Narco Giovanni di Pietro detto lo Spagna che raffigura una delle sue incoronazioni qui cominciamo a entrare proprio diciamo nella nella parte di questo tratto di questo tragitto di questo viaggio immaginario che si capisce subito ha anche maggiore legame con l'area scoletina perché qui il modello ovviamente è lì ma non solo perché non dimentichiamo che a Narni c'è Ghirlandaio quindi ovviamente poi per quanto riguarda lo Spagna le influenze sono moltissime perché poi lo Spagna subisce e anche alcune influenze del Berugino ma senz'altro fa tesoro della lezione sia di Lippi sia e forse soprattutto di Ghirlandaio e qui ci sarebbe da parlare per ore su questo tema e sulle declinazioni di questa tipologia di immagine che io per la quale ho fatto riferimento sia a Lippi che a Ghirlandaio perché in entrambi i casi e soprattutto in Ghirlandaio c'è un forte riferimento alla danza quindi a un tipo di ensemble strumentale estremamente complesso estremamente articolato che allude proprio a una prassi specifica e a un tipo di esecuzione molto molto particolare guardate gli angeli faccio solo notare gli angeli in primo piano sono angeli danzanti e questa è proprio una caratteristica che viene dalla tradizione che muove da 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 al Ghirlandaio diciamo di Narni e ha tutta una serie di appunto declinazioni sia nello Spagna sia poi in Jacopo Siculo allora è interessante vedere per esempio forse non so se qui ho messo in particolare ma sì ecco forse tanto per vedere guardate qui anche gli strumenti estremamente accurati hanno una disposizione molto simile a quella del Ghirlandaio ma semplificata perché comunque con lo Spagna la tradizione cambia si modifica e capite potete immaginare quanto sia interessante vedere i cambiamenti che intercorrono dal punto di vista proprio strumentale dal punto di vista del ritratto dell'immagine musicale e del modo di intendere l'immagine musicale apparentemente uno guarda queste incoronazioni dello Spagna e dice beh sì sono tutti uguali è un cliché che è vero diventa anche un cliché soprattutto se poi questo tema lo troviamo disseminato nelle campagne della Valnerina e della zona soprattutto dello Spoletino ma al di là del cliché è interessante vedere come di volta in volta venga reinterpretato come di volta in volta venga capito o non capito anche il modello questo è estremamente interessante e la dice lunga anche poi sul livello di recezione ovviamente di questa stessa immagine da parte di chi poi la dovrà osservare la dovrà affluire la dovrà attivere specialmente se si tratta di luoghi di passaggio luoghi di cammino luoghi appunto di ospitalità luoghi di pellegrinaggio andiamo andiamo avanti ecco questo all'altro lato guardate anche qui guardate la bellezza del pezzuto il formamento dritto i tamburelli i sistri la lira insomma c'è una ricchezza strumentale veramente eccezionale che ritalta fortemente il modello ecco qui ancora siamo purtroppo l'immagine pessima ma perché è in Pascheggino che voi conoscete benissimo siamo proprio nel cuore del territorio bagnato dalle acque proprio luogo veramente di passaggio e ancora una volta un'altra in coronazione purtroppo lo stato di conservazione è pessimo questa in realtà quest'opera è stata cominciata dallo Spagna che non ha potuto finirla che si era però ritratto forse l'ho messa dopo l'immagine perché lui aveva completato la parte bassa e in particolare aveva completato la natività e si era anche autoritratto perché è il suo ritratto quello del pastore con la cubita bianca e anche qui aveva messo un elemento musicale importante i tre angeli che sono anche questi sono un cliché però c'è modo in modo di raffigurarli poi questi angeli stanno cantando che non si vede ma stanno cantando realmente il modo in cui tengono anche in cui leggono la parte al libro è estremamente significativa non è un semplice cartiglio buttato lì ma è proprio il segno di una prassi specifica e guardando da vicino appunto si vede proprio che è un coro angelico vero e proprio che rappresenta un'esecuzione musicale vera e propria Maria Luisa chissà che ci fermiamo a scheggino andiamo un po' avanti e comunque questo significa che una delle prossime occasioni abbiamo da proseguire volentieri assolutamente comunque faccio una domanda dimmi io così non è che sia esperta come voi sorellate però mi sembra che il primo caso di gente che canta è stato quello di gioco nella Basilica di San Francesco quando rappresenta Greccio è stato un po' quello che ha fatto scuola a tutti i vittori successivi non c'erano altre beh diciamo che questo elemento è sempre stato è sempre stato presente è chiaro che da un certo momento in poi soprattutto diciamo nel basso medioevo questo diventa un come dire anche una prassi più 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 costante perché anche c'è un livello di diverso realismo anche esatto esatto e certamente comunque mi richiami a Sisi ma come io considero modello principe proprio e tra l'altro e tra l'altro il francescanesimo è fortemente legato al tema dell'indolonazione della Vergine perché si si lega proprio a questa tradizione io ti ringrazio se faccio questa parte è cattivissima no te l'ho chiesto io grazie buongiorno a tutti grazie per avervi questo invito e come anticipato parlerò del Cannellino il Cannellino è sempre stato in funzione fino al 1950 oggi è qualcosa che mai purtroppo poi riconoscono ma che ha avuto un ruolo fondamentale nel sviluppo industriale della nostra città questa è la larga inaugurale tra l'altro non si sa che si ne abbia fatta purtroppo dove però viene riportato un dato molto importante il costo di costruzione del canale che ammontava circa 200.000 dell'epoca oggi questo importo ricapitalizzato corrisponderebbe a circa 880.000 euro quindi pensate che investimento fece il comune di Derni in quegli anni anni in cui veniva realizzato anche il forzo d'acido quindi la città a Derni assumeva il forzo di una città perché non c'era neanche il forzo principale ecco dove si trovava il ministro del Cannellino il ministro del Cannellino si trova nella zona di 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 ma dove tutti conoscete molto bene e questa fotografia cartolina per me di vedere altre roba ci dà la possibilità di guardare veramente quello che era l'inizio del canale quindi l'opera di presa la dica mobile la casa di guardia e l'inizio del canale vero e proprio e di lì partito il canale delino come si vede sullo sfondo le acciaglierie come si vedevano chiaramente in quell'epoca questo è il Ponte Viga che ancora oggi esiste che faceva appunto dal Parlamento e lì c'era l'opera di cantazione la fotografia è circa nel 1930 vedete le fotografie a colori chiaramente non erano a colori ma è possibile ci sono dei soldi sofferto se ne va domeneggiare grazie ai quali possibili colorarle in qualche modo attualizzarle che mi hanno assumono un fascino diverso questo è sempre il Ponte Viga visto da un'altra colazione in una fotografia del genio civile di Derni la portata iniziale era di 22 metri cubi poi nel 1904 fu portata a 35 metri cubi questo è proprio il tratto del canale parallelo alla strada sotto la collina di Berlima come vedete non c'era la cifra non c'era niente assolutamente solo solo la collina dopo circa dopo poche centinaia di metri fu realizzato uno scarico quindi si vede benissimo il grado di smaltire 20 metri di cubi di acqua da domenica il canale viene messo in asciutta come sapete che perlomeno il Piederni sa che il pelino trasporta molte sostanze in sospensione molte chiaie quindi la domenica le aziende non potevano lavorare e venivano fatte tutte le operazioni di pulitura delle chiaie questa è un'altra bella fotografia si vede il bacino di avvio che distribuiva le acque e poi le aziende che utilizzavano il canale per produrre l'energia dalle quali annoveriamo gli edifici centriolini e la fabbrica d'armi qui dove oggi c'è tutta l'area ex termi ma comunque c'erano speciali termi c'erano le formati in cui venivano costruiti i refrattari per gli acciaieri ecco qui si vede molto bene il bacino di distribuzione una delle due centrali per le lettere dell'edificio centurini questi cavannoni sono quelli dell'edificio centurini ormai non esiste più perché è stato demolito a metà degli anni 90 per far posto a nulla quindi abbiamo perso anche quello e qui c'è poi la fabbrica d'armi e si vede anche parte dello stadio di Viale Blin che quello ormai come purtroppo ne rimane la fotografia del 1918 qui invece abbiamo una vista molto ravvicinata del bacino partitore il bacino partitore come dice il numero è il compito di smistare l'acqua verso le varie aziende verso le varie utenze e quindi da lì partivano tutta una serie di canali ecco qual era la potenzialità del canale il canale era dimensionato per 40 metri pubblici d'acqua e considerate quanto è stato costruito non erano 100 pochi veniva sfruttato per 35 metri pubblici e queste erano le aziende che lo utilizzavano quindi la fabbrica ad armi di terni la fonderia lupovic che non esiste più si trovava nei pressi della stazione e è stata completamente distrutta durante la seconda guerra mondiale la centrale di san martino che si trovava dietro a quello oggi che è il residence inizioni che all'epoca era una palegnameria molto affermata a livello nazionale l'odificio Cempurini aveva due centrali bioelettriche e aveva anche il edificio Gruber del quale purtroppo rimane molto poco perché anche esso è stato distrutto per il 60% durante la seconda guerra mondiale poi c'è stata costituita la nuova questura e quindi capire che si è quello che rimane ma quello che rimane sarebbe molto importante e poi c'è la cosiddetta centrale Erlicon che è stata una delle prime centrali bioelettriche d'Italia e Terni è stata una delle prime città ad avere l'illuminazione pubblica nelle strade quindi è quasi un primato trovo Milano tra l'altro utilizzava il carbone non ci dimentichiamo che a Terni anche le acciaierie utilizzavano l'acqua tutta l'Europa andava al carbone non utilizzavano l'acqua questo era un primato in tutte le industrie in qualche modo utilizzando energie più innovabili le potenze come vedete non sono chiaramente elevatissime ma vanno sempre commisurate con i tempi ecco oggi parebbero fanno quasi sorridere diciamo siamo quasi nel campo non dico del minuto elettrico ma un pochino più in su questo è un bellissimo disegno dell'erba si vede benissimo lo sviluppo del canale il bacino partitore e poi con una precisione e di segno tipica nell'erba le varie ramificazioni con tanto di metri bubi spettanti rimontati questa è una planimetria tratta dal libro di Guido Bergoli che era ingegnere del consorzio di buonifica un'opera fondamentale nel sito alle acque di Terni dedicata alle acque di Terni che è fondamentale per chiunque voglia studiare le acque è un libro dal quale bisogna non si può proscindere e qui si vede ancora meglio le varie centrali infatti i catarni l'anificio e questa su in fondo la centrale è albicola con tutti voi gli analisi carri Bergoli era di una di una precisione di un taglio eccezionale questa bellissima fotografia della centrale esterna dell'edificio Centorini con il suo spioratore di questo impianto rimane solo uno perimetrale praticamente non esiste più nulla e questa invece è la fabbrica d'armi se oggi noi andassimo in questo posto vedremmo esattamente la stessa immagine è l'unica azienda che è rimasta ancora attiva ed è l'unico ramo del canale Nerino ancora oggi funzionante chiaramente l'acqua non viene più derivata come il passato ma viene captata dallo scarico della centrale del Ziazimone che è un piccolo gruppo idroelettrico realizzato negli anni 90 all'interno della centrale di Cervara la fabbrica d'armi usa 200 litri di carta perché ancora ne ha bisogno ripeto è l'unico tranco ancora in vita tra l'altro quando è stata costruita la fabbrica d'armi non c'era ancora una gran prova centrale preelettrica c'erano delle paracorie qui fortunatamente si vede benissimo e alimentavano direttamente per caduta queste turbine primitive e poi la fabbrica d'armi si è dotata di una centrale idroelettrica in cui vediamo la sala macchina distrutta anche essa durante la seconda quadra mondiale e non più ripostruita la centrale per farvi capire dove si trovava la prima centrale idroelettrica di Derni potete riconoscere senz'altro questo è il campo feroso dove c'è questo muro oltre ad esserci una zona ricca di mulini qui c'era anche la prima centrale idroelettrica di Derni poi quest'area è stata destinata ad uso abitativo quindi si è totalmente verso traccia di tutto questo era l'interno della prima centrale idroelettrica di Derni che è una che questa una cartolina a Terocca del 1900 sono proprio dei gruppi idroelettrici primitivi a Cinghia quindi davano tantissimi problemi necessitavano di una maltenzione non giocagliera al minuto proprio andavano ingrassati a mano ma se andate a leggere alcuni che noi chiamiamo record insomma resoconti di manutenzione dell'erroelettrica qualche cosa di affascinante che sembra impossibile pure curavano ogni istante la vita di questi macchinari questa è una foto aerea dell'erroelettrica guardate le dimensioni dell'antifizio grupper questi capannoni a scherzo costruiti secondo il modello inglese non esiste più nulla la parte che è diciamo conservata è questa qui c'era il canale mino finiva qui la diciamo bastione che ancora oggi esiste poi alimentava la centrale dell'arificio e la centrale aveva ricordo che perere questo è reale il campo frevoso che trovava esattamente qui la fonderia rubovici abbiamo già parlato si trovava nei pressi della stazione ferroviaria cosa visibile da questa planineria e considerate che la costruzione di questo ramo che avevano mistero sviluppo chilometrico costò quanto lo stesso canale merino quindi una cifra importante e questa derivazione praticamente attraversava quasi vita la città perché passavano i pressi della camera di conveggio tanto per rendere l'idea poi fu durante i pendenti fascista molti canali furono ricoperti quindi fu con parte delle gallerie in realtà perché poi anche aveva un discorso proprio igienico ragazzo la centrale di San Martino dove tutti noi andiamo a passeggiare a passeggiare nei pressi del parco pubblico si trovava esattamente dietro alla palegnante di addizioni che oggi è un affermato presse esattamente indietro ed era gestita dall'acciaieria cosa rimane cosa rimane di quest'opera straordinaria rimane la riga la riga mobile che a cavalli quindi la parte sottostante si apriva o chiudeva in base alle esigenze ecco quando era aperta chiaramente faceva detutire le arque qui si vede chiaramente in villera il canale iniziava esattamente qui c'era alcuni anni fa molte opere che c'era il bacino di karma ancora erano conservate poi per effettuare i lavori alla rete della nifera è stata creata una strada che un bacino di karma non esiste non esiste più è andato è andato lì canale iniziava esattamente qui quello che oggi ancora rimane questo è lo scarico all'interno del torrente serra di cui tutta l'anca il canale nerino finiva qui la rami in viso direttamente qui e questa è l'ultima paratoia del canale di rino qui smistava si trova all'interno dell'anifera e smistava l'acqua alle musiche di cuore in centrale interessante è praticamente risconosciuto questo ponte canale in metallo che si trova sotto tre serra che consentiva appunto di scavalcare questo pozzo d'acqua per poi portare l'acqua alla funteria Lucolici e alla centrale San Pantino ora considerato considerata l'importanza storica del canale Nerino la sua sezione di cui faccio parte il centro studi malfatti nel 2013 ha formulato una proposta per la realizzazione di un banco del canale Nerino prevedendo la ristrutturazione per lo meno di immobile da destinare a conservatoria degli archivi industriali della nostra città so se lo sapete ma gli archivi sono frammentati in varie sedi a cui si trovano anche fuori termini pensiamo a quello del genio civile un altro di assoluto direo che si trova a Solomeo se non è stato poi un altro inserito portato un'altra parte dell'archivio si trova presso l'arba l'arba c'è l'aria l'ast per meglio dire ha riacquisito una parte del suo archivio che è stata per circa 30 anni conservata presso l'archivio di stato quindi sono tutti sparsi qua e là ci sembrava interessante magari poter destinare un immobile alla conservazione di questi archivi e dal momento che si parla del museo delle armi con 4 o 5 inaugurazioni fintizie che sono state fatte nel corso degli anni della ciclo pedonale che dovrebbe appunto costruggiare il flume nera e del fatto che si potrebbe creare un'asse molto interessante creare un parco e un museo e una conservatoria degli archivi lì ci sembrava un'idea molto interessante se non che pare che quest'area venga destinata al sociale ora nulla contro il sociale ci mancherebbe ma visto che in città ci sono molti immobili posti in identità da possiamo dire ormai decenni che probabilmente non verranno mai venduti e che magari potrebbero essere usati per il sociale visto che quest'area ha una peculiarità così interessante per una volta tanto fare un'operazione di recupero della nostra storia ecco questa è una delle ultime occasioni che ci rimangono auspicherei che non si segue allo stesso che è stato subito per la Siri insomma le cose sono andate in modo ben diverso ecco tutta questa storia mi sono divertito a raccontarla alcuni anni fa nel mio libro l'arco motore dell'industria e poi ho l'occasione dal momento che con mia grande soddisfazione il libro è esaurito che è stato venduto sono state vendute tutte le copie ho pensato bene di realizzare l'ebook che ho lanciato in questi giorni quindi che fosse interessato potrà approfondire la storia del canale Nerino e non solo su grazie all'ebook vi ringrazio per l'attenzione sì tanto aspetta un attimo buongiorno a tutti grazie per l'attenzione io sono Giovanni Lucini e vengo a rappresentare l'ente Forza Lamello e attraverso di me ad invitarvi l'ente che mi invita alla prossima edizione della forza che sarà dal 24 a 12 di maggio un metodo diverso per portare avanti l'evento festivo cioè darci un tema darci un tema attraverso questo tema con l'aiuto di specialisti professori rievocatori cercare di coinvolgere anche le persone che fanno parte dei terzieri per cercare di ricreare all'interno del spazio della festa momenti di studio e di condivisione proprio inerenti al tema scelto il tema di quest'anno è l'acqua e vi ringrazio molto gli organizzatori per i miei studi venire a portare il saluto e anche un piccolo contributo perché l'acqua perché in un territorio come il nostro i soldi in anni quindi siamo vicinissimi in un territorio che è unito tutto insieme da questo fiume che ci lega che ci lega a tempi ancestrali proprio in questa sala a ottobre mi sembra c'è stata una magnifica lezione del professore Agustino Giglotti probabilmente qualcuno di voi c'era il professore ci ha aiutato a capire attraverso il nome i nomi dei fiumi e delle montagne quali sopravvivenze della linguistica indoeuropea ma anche più antica ci fossero l'Italia in modo generico e abbiamo capito che proprio l'area della valle della bocca ternana ne è ricchissima probabilmente tanto l'origine della parola termini quanto quella della parola narmi non derivano da un sostrato indoeuropeo come direvamo ma anzi a quello che poi è stato identificato come come safino che poi in realtà ci portiamo in modo ancestrale dietro fino ad oggi il pomeriggio all'artipo di stato è stato presentato un meraviglioso libro una coppia anastatica in realtà del padre Don Gelindo Ceroni e il titolo del libro è Castelli Umbro Sardini un libro che io ho conosciuto da studentessa in biblioteca soltanto in versione di fotocopia perché non ce n'era neanche una coppia ad anni adesso è stato ristampato ed è stato interessante anche commovente capire come Don Gelindo Ceroni già a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento aveva capito una cosa fondamentale che a livello sociale e culturale i motivi politici territoriali che ci siamo dati poi per necessità amministrativa per carità hanno poco valore nel senso che poi la natura dell'uomo e la natura di stare insieme tra simili e tra persone che condividono il suo strato culturale e linguistico è più forte e tutti questi territori che vengono mostrati all'interno del volume mettono in evidenza proprio le peculiarità di questi luoghi che sono ancora esistenti viventi le persone civili le animano e fanno parte tutte di un'area che è chiamata la Sabina una regione che politicamente possiamo dire che non esiste più ma che culturalmente è vivissima è vivissima e di cui noi facciamo parte perché siamo proprio cerniera di quella grande vasta aria che c'era tra l'Umbria e l'Umbria e l'Umbria primitale il nord del Lazio perché faccio questo giro di parole perché anche per necessità di tempi e per risurre un pochino magari il discorso che vi invito a proseguire a Narni se ne avrete piacere e voglia di questo mondo sabino noi portiamo dietro tanti elementi tante credenze a livello culturale perché nascono da un bisogno fondamentale dell'uomo quello di darsi una risposta e perché lo dico oggi che parliamo di acqua perché l'acqua è il primo alimento che un uomo proprio nella fase di nascita e di formazione è a contatto all'interno della certa noi siamo nell'acqua usciamo la prima cosa che viene fatta finiamo lavata quindi l'acqua è questo elemento che a livello biologico ci accompagna fin dal primo momento della nostra esistenza e forse è per questo che la ricerchiamo continuamente perché è un elemento di cui siamo attrati e con il mondo sabino che c'entra c'entra perché in quest'area una cosa che abbiamo fatto in modo meraviglioso perché poi l'uomo vive sul territorio agisce nel territorio lo guarda lo scluda lo governa o meglio cercare di governarlo ma tutti altri ha bisogno di dare delle risposte alle proprie domande e cercare di trovare quel tramite con quel mondo che non riesce a capire e a decifrare per cui cosa fa immagina e si crea un mondo allumato di presenze che servono a soddisfare quelle necessità si inventa l'idea e in quest'area le notizie che noi abbiamo delle divinità più antiche sono tutte dedicate all'acqua e sono tutte dedicate alle donne perché le nostre divinità prepordiali in questo territorio erano tutte troppe le cito alcune Feronia tanto che hanno i arimesi Vapuna che si trova poco con l'anno che era proprio in area veramente sabina e un'altra che è un pochino più distante da noi ma che con Feronia ha una particolarità in comune che poi andiamo un attimo ad esplorare che si chiama Egeria l'avrete sicuramente conosciuta chi era era la consigliera l'infamata da chi dal nuovo punto il secondo di Roma siamo ancora in Sabina perché Egeria nasce in Sabina poi andrà a Roma ancora in Roma ma nasce in Sabina quindi un mondo fatto di presenze che servono sicuramente a dare risposte e chi qui però si mantiene il ricordo e il culto in modo differente anche oggi penso a Narvi quando è primavera la prima cosa che si fa io ne la ricordo da bambina ma vedo che ancora si fa se ci andiamo a Feronia che cos'è è una fonte che si trova poco distante dalla rocca Valbornoz quindi il tratto che si fa dal centro urbano una rocca a primavera è piacevolissimo perché è illuminato dal sole quindi è una bella passeggiata e si torna a Feronia cenitamente queste divinità hanno delle particolarità di Egeria parleremo alla fine per un momento ma per Feronia e per Egeria hanno una caratteristica che le rende particolarmente necessarie al muto delle donne e la significa cosa nel nome vi lascio anzi una piccola sfida se vi piace un attimo pensarci Feronia e Egeria che cosa vi evocano e li conosciamo attraverso già nomi che sono mutuali dalla lingua latina attenzione però ci mantengono tutta la radice di questo significato Feronia è come diciamo in italiano in realtà dobbiamo immaginarla come Ferona Fer quella che porta Egeria Egerede quella che tira fuori e a chi fa riferimento questi due atti portare e tirar fuori a quale momento della vita di una donna alla nascita al parto queste divinità legate all'acqua e qui erano consagrate all'acqua ci danno una delle caratteristiche per cui l'acqua era tanto anche importante perché era il ciclo vitale è legato direttamente al ciclo vitale e queste divinità erano di la salutifere e l'acqua spesso anche nel mondo antico quello greco quello romano ma prima ancora anche quello dei popoli italici era i santuari dove c'era l'acqua erano spesso luoghi dove si andava a partorire lo stesso mito dedicato al nuovo figlio dice che il figlio è nato nel tempio di Cegare ma come è possibile nascere nel tempio ci si nasceva sì per primi tempi c'erano le aree dedicate alla cura della persona e anche ai partorienti ora noi abbiamo l'immagine che soltanto all'ospedale ma anche che con le mesi si attorisce in realtà sappiamo che non è così nel mondo antico molto spesso i santuari femminili c'erano dei popoli dedicati al partorire cosa che in realtà anche gli istituti di assistenza del 600 del 700 con le suori avveniva ancora penso al centro viato a Lucia di Nardi che fino alla metà degli anni 50 ha ospitato un'area dedicata al parto delle donne quindi quello che piaceva mettere in evidenza in questa situazione era quanto l'elemento dell'acqua che è santifera era necessario alla psicologia anche delle persone cioè dedicare dello spazio al punto delle acque e dare un nome che avesse un senso rispetto alla necessità che l'uomo avesse o meglio che una donna avesse era fondamentale per parlare un attimo invece di Egeria Egeria torna molto bene nel ragionamento che stiamo facendo oggi nel senso che ha qua pace ed energia certamente Egeria è un personaggio talmente particolare sicuramente di ovviamente di ricostruzione di fantasia ma che oltre al fatto di dedicare averci dedicato un punto proprio da parte dei partorienti assume nel tempo e per i romani poi una valenza superiore si dice fosse l'amante di Nuovo Conquilio probabilmente è tutta una costruzione nata per dare un senso a quello che invece Nuovo Conquilio fece cioè quello che traspare dagli studi che vengono collotti continuamente su questi due personaggi è quello di prestare o meglio è diciamo l'invito di prestare attenzione a un altro elemento di riflessione l'acqua o un suono la sentiamo scrociare anzi quante volte si dice ho bisogno di andare al mare o sentire le onde del mare perché il rumore nell'acqua è un rumore suono nell'acqua è un suono limitivo un suono che porta alla concentrazione alla contemplazione spesso i luoghi di culto più antichi erano quelli siti dove c'era l'acqua ma erano quelli nascosti le grotte e si dice nel come andasse proprio in questa grotta ad incontrare Algeria Algeria era l'acqua fondamentalmente a cui sì magari era stato dato questo nome Algeria ma non era una grotta e tutti i consigli che nella che conosciamo dai datori antichi dalla mitologia l'uomo convivio riceveva da questa Algeria sua consigliera necessaria e ecco la pace alla creazione dei buoni normi per il vivere civile delle persone che vivevano a Roma che era stata secondata da Rogolo per una Roma corresca in Roma che dà l'anima alla città e dalle regole il senso religioso il senso del tempo e l'acqua e il tempo sono perfettamente uguali tra le loro quindi quello che faceva l'uomo probabilmente non era altro che andare a praticare gli oculti di tromanzia un'altra pratica del mondo antico che è legata proprio all'interpretazione dei suoni dell'acqua e dei movimenti dell'acqua che si sviluppano quando degli oggetti che sono all'acqua estranei entra in contatto con essa e qui termino il mio discorso con un pensiero che mi è venuto proprio mentre parlava il relatore prima di me parlando del canale Nellino l'ultimo pensiero con cui lascio è questo qui per l'uomo antico più che per quello governo ad ogni azione che si faceva corrispondeva una reazione che doveva essere uguale e contraria è un principio fisico no? ogni volta che si faceva qualcosa soprattutto nei confronti dell'acqua nel mondo antico ti andava a turbare il suo naturale muoversi il suo naturale stare fermo anche dove veniva in qualche maniera essere spiata questa colpa che si faceva perché veniva interpretato come un sacrilegio perché nell'acqua c'era la divinità anzi perché sono le fonti che sono consagrate spesso diventano le ninfie i nomi tutelari perché è proprio nei primi tratti dove l'acqua sgorga dove si genera il movimento alla stasi che c'è la perfezione di quella divinità nel momento in cui la vado ad alterare io creo un problema e lo devo in qualche modo spiare ed è qui secondo me che c'è un po' la spiegazione della nascita del mito del racconto che accompagna il formarsi della cascata del marmore ora mi ricordate cosa come ce lo stiamo spiegando a livello mitologico questo fatto tra il pastore velino che si getta disperato perché non può amare il nero la nera ora questo altro non è che un piacolo c'è un atto di espiazione è un succedo perché era necessario che ci fosse una vita sacrificata all'atto sacrificato di aver in qualche maniera deviato la naturale condizione che l'acqua avrebbe avuto se non si stava toccata ma avendo rotto sperone roccioso sperone di calcare che permette all'acqua di scendere l'uomo ha fatto di fatto cosa di legge ed è per questo che si deve creare il mito dell'espiazione perché altrimenti non ci sarebbe l'equilibrio tra l'uomo e gli te con questo vi saluto vi ringrazio dell'attenzione e per quello che riguarda il tardo antico invece vi rimando a Nanni vi invito quando uscirà il programma magari cercheremo di farlo girare in modo che lo potremmo che periodo è 24 aprile 14 maggio benissimo benissimo grazie io vorrei ringraziare l'onora non so se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda io ne avrei una che non so se è il tuo campo ma un po' si forse ma questa cascata le marmore che viene definita la prima cascata artificiale è stata voluta o è stato un incidente di percorso perché magari volevano portare l'acqua a Roma e qui nasce il mito allora qui nasce il mito perché bisogna giustificarla in qualche maniera questa brutta cosa che l'ha stata fatta però no è stata voluta è stata voluta infatti in fase iniziale di progettazione è stata voluta per eliminare i problemi che si avveravano nella via esattamente le adina è stata poi per secoli in realtà cercato il modo di gestire questo fiume d'acqua enorme fiume d'acqua perché come dice il proverbio il tevere non sarebbe bevere se la nera non gli desse a bevere nel senso era talmente tanta acqua che poi scendeva dal velino alla nera che l'ingrossava e poi arrivava a Roma che le piene del tevere provocate dal nera ingrossato a Roma sono ancora ricordate con targhe lungo e le argini del tevere per cui il problema a livello storico e a livello archeologico forse non abbiamo ancora capito bene quanto doveva essere enorme l'impatto di questa massa da quanti andava reggimentata ed è per questo che i papi per secoli hanno cercato la soluzione a questa gestione perché il problema poi che cosa significava si ingrossavano i fiumi e va bene ma se abbiamo in mente le immagini degli ultimi dei giornali quando c'è stata l'ultima andata di maltempo in Valderina quello che ha accaduto quando il nera è uscito dagli argini immaginatevelo per la colla immaginatevi nella colla del nera immaginatevelo in un territorio dove giustamente il collega precedentemente ha detto esistevano tra navi e termi centinaia di molini che servivano per il grano per le olive per i filari della canapa di cui questo territorio era ricchissimo e non significava soltanto acqua che andava fuori ma erano economie distrutte economie su cui poi la chiesa cambiava le tasse di conseguenza era necessario era tutto un legame esattamente grazie 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 a voi in genere c'era descritta la complessità del sistema idraulico della cascata del marmo io sono nato e ho cresciuto qui ma non la conoscevo questa storia e credo che moltissimi dei ternani non la conoscono è una storia incredibile affascinante e noi nel museo abbiamo paragonato alla costruzione delle grandi cattedrali medievali perché per vedere la cascata come oggi diciamo decine di generazioni in 2300 anni hanno lavorato per ottenere quello che possiamo vedere oggi sono stati sforzi umani incredibili in termini fisici che poi all'epoca i miei lavori stavolviano manualmente con pochissimi marginali enormi sforzi di intelligenza di ingegneria e tutto ciò mi ha reso orgoglioso di far parte di questo territorio come ultima generazione di un passato incredibile e per questo l'abbiamo voluto raccontare nel museo sempre tutto il museo è basato proprio sul senso della tradizione cioè del trasferimento alle generazioni future di quello che abbiamo ricevuto dalle generazioni precedenti è un un lascito che vogliamo lasciare a chi verrà dopo di noi e che noi non conosceremo neanche come è successo per chi ha costruito le catedrali chi costruiva le catedrali in un'epoca di anche notevole difficoltà economiche lavorava tutta la vita per tirare solo una fila di pietre senza avere la minima idea di cosa sarebbe stata l'opera finita perché catedrali hanno avuto bisogno di secoli di tempo per raggiungere la morte completamente quindi questo museo intende far comprendere ai visitatori che noi siamo soltanto in un percorso dopo di noi ci saranno altri interventi che dovranno operare questa opera e che la dovranno adattare alle nuove esigenze alle nuove condizioni climatiche quindi è un qualche cosa che è in continua di venire il mito di Hidra che è l'ispiratore del museo racconta proprio in maniera simbolica il rapporto tra l'umanità e l'acqua un atteggiamento tipico degli esseri umani è quello di cercare di modificare la natura per proprie necessità per cercare di avere maggiore produzione agricola o industriale oppure maggiore sicurezza per le proprie case tutti questi interventi come vedremo in questa descrizione della storia non hanno mai portato ad un risultato definitivo sono sforzi che sono stati sempre in qualche modo sconfitti dalla forza della libertà questo è il mito di Hidra Ercole cerca di uccidere il mostro ma in realtà non riesce fino in fondo a governarlo perché l'acqua avrà sempre la meglio quindi è un messaggio fortemente ecologista che vuol far comprendere che il nostro rapporto con la natura e con l'acqua in particolare deve essere improntato su canali completamente diversi speriamo che prima o poi qualche generazione imparerà a gestire il rapporto con la natura in maniera diversa come abbiamo fatto noi come tuttora siamo in certo modo vedremo nel museo ci sono tre fatti storici principali uno un intervento idraulico umano incredibile un grande intervento di ingegneria che lo stessi piace e comunque a termine dell'impero ha visto una terribile inondazione quando non c'era più la condizione di un pianto e la distruzione nel 1053 del ponte d'Augusto per la natura quindi primo grande intervento umano molto efficace l'acqua vince vince di nuovo in epoca medievale rinascimentale hanno tentato di recuperare la maestria romana cioè c'è tutta una serie di interventi curiosissimi che hanno portato più o meno alla situazione di oggi con tutta una serie comunque di problematiche che hanno impegnato secoli di generazioni poi è arrivata l'epoca industriale l'epoca industriale è stato un periodo molto breve di cui noi già possiamo vederne il sesto finale tutta quella che oggi definiamo archeologia industriale non è altro che una serie di costruzioni abbandonate viene di luggine del macchinario utilizzato anche in questo caso quindi il grande orgoglio umano di sfruttare l'energia la potenza dell'acqua ha portato come risultato quello che potete vedere che conoscete di l'area ho capito una serie di fabbricati da demolire hanno un loro fascino indubbiamente non è altro del calcio escluso arrugginito e macchinari da quindi anche in questo caso il mostro idra ha avuto la meglio sugli sforzi umani il territorio oggi come lo conosciamo noi ha una efficienza di gestione idraulica incredibile grazie a questo museo ho potuto approfondire questi argomenti e ho compreso quanto sia complesso e meritevole il sistema di gestione delle acque di tutto il territorio è un territorio ricco di acqua che per lo meno si è stato per secoli le condizioni oggi stanno cambiando praticamente c'è una rapidissima riduzione della dell'audio sky quindi c'è una necessità di rivedere molto rapidamente tutto il sistema di gestione e distribuzione delle acque quindi di nuovo il mostro idra sta vincendo di noi dobbiamo riuscire a creare delle nuove forme di gestione delle acque lì vedo la direttrice del consorzio di venera è uno dei a mio avviso uno dei principali fattori che meritevoli di apprezzamento per quello che è una eccellente gestione del territorio a differenza di altre città italiane come può essere Genova o Milano nessuno di noi ha memoria di una goccia d'acqua uscita dai canali questo vuol dire che tutto funziona in una maniera eccellente nonostante un bacino imbrifero immenso che raggiunge il lago del salto del Burango proprio in un paio di regioni quindi dobbiamo da una parte essere orgogliosi della nostra storia orgogliosi nel sistema industriale di gestione del nostro territorio ma nello stesso tempo dobbiamo comprendere che i nostri interventi sulla natura e sull'ambiente devono avere un approccio completamente diverso perché altrimenti saremo l'ennesima generazione che ha fatto degli sforzi convinta di poter raggiungere dei risultati e di sconfiggere il nostro vita ma saremo di nuovo a dover osservare le generazioni che seguiranno le nostre sconfitte questo è l'introduzione adesso vi racconto in maniera brevissima il museo che è multimediale come dicevo quindi è basato su questo racconto di Hydra con una prima parte con un videomapping che racconta la storia della scala affascinante interessatissima e noi abbiamo voluto trattare soltanto in piccola parte perché è una storia talmente ricca che avrebbe bisogno di un tempo molto più lungo che non è compatibile con la produttività di un museo poi c'è tutta la storia industriale in termini città nata sull'acqua siamo diventati successivamente alla città dell'acciaio ma noi siamo la città delle acque tutto quello che noi abbiamo creato sulle relazioni la piccola cittadina ha 10-15 mila abitanti è diventata una città industriale perché è successo tutto ciò grazie all'acqua oggi ma poi c'è stato il grande periodo dei penaristi dello sviluppo dell'arte artisti appassionati e rapiti dalla bellezza di questo territorio lo siamo ancora noi raviti da questa bellezza anche se non ci sono artisti a mia riconoscenza diciamo che la descrivano in questo momento e termina il museo con una nota un po' triste che è quella appunto della constatazione della fine dell'era industriale quindi con un drone all'interno dello stabilimento di bambino dove si vede che la musica è anche un po' angosciata proprio a far comprendere i visitatori che idra il mostro ha vinto di nuovo un minuto ancora vai vai che cosa è successo poi qui ci ha fatto estremamente positivo che si sta sviluppando cioè il museo è entrato nella rete mondiale del museo dell'acqua dell'unesco è una rete di 84 musei in tutto il mondo e onestamente senza grandi meriti siamo stati travolti da questo network che è un network internazionale gestito da un italiano con nostra fortuna e diretto da un holandese quindi gli europei ne sono ancora i responsabili dei gestori nonostante enormi pressioni della cina in termini economici per portarsi la gestione in cina di questo genere ma chi che sono europei teniamoci i cari perché hanno un potenziale dell'olto vento evidentemente immenso in termini di relazioni è quella che si chiama idrodeplomazia i musei dell'acqua dal punto dell'unesco ci hanno chiesto perché noi siamo un museo privato hanno visto in noi gli unici interlocutori in un sistema di musei statali e quindi gli unici interlocutori che hanno chiesto noi siamo l'unico interlocutore che ci hanno proposto la creazione di una fondazione la fondazione dovrebbe avere finalità didattica e formative quindi formare le generazioni secondo i dettami dell'unesco qui in Umbria noi abbiamo un'importantissima sede mondiale dell'unesco dove presentano il report mondiale della situazione dell'acqua e l'ho fatto qui in Umbria e loro con loro stiamo sviluppando dei progetti di formazione e di didattica insieme anche a degli antilocali per far comprendere alle generazioni quali sono gli atteggiamenti corretti da tenere in confronto e da derivare dell'acqua quindi la fondazione dovrà fare questo poi dovrà occuparsi del trasferimento tecnologico perché l'università personale di Perugia e l'università per poste di Venezia che partecipano all'iniziativa proporranno delle attività di ricerca che poi potrebbero sul territorio trovare applicazione e forse la cosa più importante è la realizzazione di un eco-museo l'eco-museo e ce ne sono altri sul territorio ma non funzionano nel palo dell'Italia noi speriamo che il nostro sia diverso non perché lo facciamo noi perché vogliamo farlo si generi dal territorio e quindi che non venga imposto con un intervento formativo qui dobbiamo fare un enorme lavoro sul territorio che abbiamo individuato che saranno le terre di Hidra che sono la parte bassa della Valnerina quindi parliamo di Ferentil Arrone il lago di Piediluco la Scala del Parmone e la Valnerina sono gli interventori legati all'acqua storiale questo territorio avrà un suo confine una sua identità e un suo marchio in modo che per tutti i fini turistici e culturali che porrà venire in questo territorio non andrà a Ferentillo a terra ma andrà nelle terre di Hidra che avranno una loro identità ambientale e culturale questo è la grande sfida questa è la grande sfida perché per avere un'identità di un territorio è necessario che tutti partecipino non c'è possibilità di informare l'altro se noi abitanti qui della città di Terri e del territorio circostante non comprenderemo quanto deve essere importante anche i termini economici di sviluppo un corretto rapporto con l'ambiente con la natura soprattutto con l'acqua non vicino a compiere questo passo quindi l'invito è a tutti che avvertano perché questa fondazione non sarà la nostra fondazione sarà la fondazione di un territorio la fondazione che verrà all'interno quali membro prestigioso del centro delle musee dell'acqua dell'UNESCO quindi una propensione che potrebbe portare perché ha intuito diciamo adesso senza aprire altre finestre ma potrebbe portare a sviluppi molto interessanti per il territorio e non deve occuparsi della gestione della riscata o di quelli che sono diciamo le attività culturali e turistiche della zona per creare identità dicevo serve i contributi e soprattutto serve passione e dedizione quindi a tutti coloro che si riconoscono in questi obiettivi la volta più che aperta speriamo che ci siano molte persone disposte a collaborare perché il progetto è molto ambizioso e da soli non si fa per là vi ringrazio grazie a te grazie c'è un troverbo che dice guai ai soli perché sono metà di se stessi no? assolutamente grazie per aver dato questo contributo al convegno poi se avremo un'occasione dobbiamo domani domani c'è la visita a mezzogiorno domani praticamente il programma è questo il ruolo sicuramente ci sarà la messa la parruccia di Marmole con Lorenzo Spezia che ha parlato questa mattina perché ci faremo una piccola passeggiata attraverso la Cava di Pietro e il Centro 5 raggiungeremo il Museo Ibra e saremo i vostri ospiti non so quante persone verranno magari saremo poco perché non ho idea ma non credo saremo tanti e sarà un'ottesione per molti di conoscere insomma questa luce mi scuso voglio scappare se ho un impegno insieme al sabato lavorativissimo grazie ciao ciao allora io ho ciò qui in pancia sia Domenico Cirillo che Andrea Principe perché parlano di argomenti simili Domenico in sala non lo vedo eccolo e non lo vedo si è nascosto perché adesso questa parte del nostro del nostro convegno diventa un pochino più tecnica quindi parleremo un po' di problemi più specifici dell'energia quindi posso che tu sei spertissimo di computer scusa farei prima tu se vuoti lascio il lampo e il lampo c'è una chiavetta ma non la vuoi nella vita la parli senza che vettere no la chiavetta ce l'ho ce l'ho ce l'ho faccio il segno subito buongiorno 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 è quella che c'è già c'è già c'è già retta sì 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 è bene e aspetta che anche faccia ecco e posso mettere qua sì ti preferisco in modo da di buongiorno buongiorno a tutti nella chiacchierata di questa mattina vi racconterò dall'interno che cosa sta succedendo in Italia e in Europa relativamente alla tanto nominata transizione energetica è l'importante transizione perché porterà a rivoluzionare in meno di 30 anni da oggi tutta la nostra modalità di produrre l'energia e anche la nostra mobilità per cui alcuni paradigmi attuali che ci hanno portato nelle condizioni attuali verranno spenti e verranno attivati nei canali di video quindi già nel 2030 già prorogato il 2035 tutta la mobilità e tutta la produzione di motori a combustione interna dovrebbe essere fermata in realtà non è tanto la produzione di motori a combustione interna quanto la produzione di veicoli che funzionino a combustibile fosso immaginiamo che tutti in una altra parte di noi che si sono qui con mezza benzina casolica verranno diversamente o quantomeno via via che le vetture verranno portate non avremo più emissioni inquinanti perché il vettore attraverso cui l'energia sarà rilasciata ai motori per la nostra mobilità sarà l'idrogeno questo diciamo è quello che si prevede si prevede che l'Europa sia la prima il primo continente al mondo ad adottare questa questa soluzione per mostrare agli altri che è possibile con una fortissima diffusione di fonti di energie rinnovabili che per la maggior parte sono fonti di energia che producono potenza in maniera intermittente un esempio per tutti è la potenza dell'energia solare e che ne prodotte solo di giorno non possiamo spegnere il mondo così come l'eolica in realtà insieme a questa viaggia una grande risorsa che non viene molto valorizzata ma che risolve il problema della continuità produttiva e che sono le biomasse delle biomasse residuali quelle destinate alla discarica e che non hanno nessun altro perizio se non quelle di essere interrate o con quelli di sistemi di istruzione almeno la valorizzazione energetica rimane green ed ha una potabilità produttiva quindi l'idrogeno deve essere prodotto attraverso fonti di energie rinnovabili perché se c'è una fonte fossile altrove che inquina per produrre l'idrogeno non ne abbiamo risolto il problema e contemporaneamente la produzione dell'idrogeno consente di stoccare con delle efficienze ingegnisticamente parlando ridicole ma tant'è quello che abbiamo raggiunto consente di stoccare la potenza elettrica prodotta anche quando non serve quando il picco non è raggiunto per produrre idrogeno e utilizzarlo ogni notte o per la mobilità o per la produzione dell'energia o la sostituzione addirittura del metano o la miscelazione del metano all'interno dei nostri metallurgici ora la transizione energetica quindi lo mostro qui in maniera un po' più piccolisca è questo abbiamo queste energie rinnovabili disponibili che devono andare a sostituire una fonte su cui l'umanità l'ingegneria e lo sviluppo tecnologico ha lavorato negli ultimi 150 anni con dei sistemi energetici che invece alcuni hanno veramente appena delle fasi di sviluppo di prima seconda generazione altri si si stanno sviluppando ma certamente non hanno raggiunto quel livello quindi la scienza e la tecnica è chiamata a risolvere e incrementare le efficienze di questi sistemi per esempio l'energia solare l'energia solare oggi dichiarano un'efficienza del 20% i primi pannelli solari che noi ricordiamo erano 3-4% 5% per poco tempo così com'è l'energia che un pannello solare riesce a produrre nel suo ciclo di vita 30 anni fa era insufficibile cioè l'energia che lui produceva non copriva l'energia che era servita per la sua stessa produzione quindi era antieconomico oggi invece oggi 5 anni fa un pannello produceva l'energia necessaria alla sua autoproduzione di 3-2 anni dei vivamenti oggi questo tempo si è ancora aggocciato anche sulle biomasse sull'eolico e su tanti sistemi quindi dopo approfondire un punto anzi entriamo nel mondo delle biomasse immediatamente con approfondimenti via via crescenti perché questa è una messata questio che se non la ingestita e se abbracciata con un vestito da fronti del sì e fronti del no ma si non ha affrontato in modo ragionale che può portare dei ragionamenti che non sono esaustivi e che portano a dei coniboli scorretti dal punto di vista formale noi in Italia abbiamo tutta una serie di enti che raccogliono il biomassa residuale per esempio i nostri forestali e la manutenzione dei boschi e il consorzio di bacino così come tutto il compatto agricolo dove c'è il biomassa residuale che ha poca vita utile o viene utilizzata per fare compost o per fare diciamo fertilizzante spesso in alcuni circuiti riscosi in legno di buona qualità viene utilizzato ma in legno di una maglia e di altro se non per valorizzazione energetica da cammino a vita non molto molto negna insomma cioè la seconda vita della biomassa veramente residuale è soltanto quella della discarica esistono delle tecnologie ormai sviluppate e ci consentono di sfruttare tutte queste biomassa per far sì che anche esse vengano considerate vengono impiegate perché lo sono già fonti rinnovabili e dopo il biometrio insieme a tutte le altre fonti rinnovabili appunto per andare incontro a questa transazione energetica e dare un contributo italiano a tutto questo ora quello che sono gli obiettivi nazionali e che adesso ancora sono confermati noi dobbiamo vedere se te le hanno portate avanti è quello di sviluppare un sistema in Italia con 500 gigalatti impegnati di elettronizzatore l'elettronizzatore è una macchina che fa una cosa molto semplice si prende la corrente elettrica la potenza elettrica e la utilizza per scindere l'acqua H2O in idrogeno e in ossigeno quell'ossigeno viene rilasciato in atmosfera o utilizzato in altri processi l'idrogeno viene conservato l'idrogeno una volta prodotto e bruciato ridiventa l'acqua utilizzato l'ossigeno che noi abbiamo rilasciato nella precedente separazione e così via quindi abbiamo diciamo un ciclo chiuso perché l'acqua contiene in sé combustibile e congruente quando li brucio li rimisco insieme e il ciclo è chiuso un po' quello che fanno le foglie con la CO2 noi lo facciamo con l'acqua e l'obiettivo è installare questi 500 gigawatt di elettrolizzatori e arrivare a un impiego delle rinnovabili che sia intorno al 10-14% l'obiettivo come detto prima è la decarmonizzazione il primo elemento che sta portando a problemi per il futuro della vita su questo pianeta è che il livello di CO2 all'interno dell'atmosfera terrestre non è stata nera così elevato negli ultimi 12 milioni di anni ci stiamo iniziando a preoccupare forse anche troppo tardi però se ammestiamo un incremento di CO2 e utilizziamo le tecnologie di sequestro possiamo rallentare in gasbile non lo so ma certamente possiamo rallentare questo processo di emissioni in atmosfera di CO2 quindi un incremento continuo negli anni della temperatura media del pietro e quindi nel 2030 appunto vari settori abbiamo parlato di quello dei motori verranno chiusi o cambiati la stessa cosa avverrà nelle tratte a lungo termine di camion e treni dove le linee saranno o elettrificate come lo sono già attualmente o linee dove c'è per l'elettrificazione un'elettrificazione da idrogeno cioè treni elettrici dove non si fa una ricarica di potenza elettrica ma si ricarica con l'idrogeno queste batterie che converso con l'idrogeno in coprente elettrica direttamente si chiamano full cell così come tanti altri settori oggi finalmente l'Italia proprio in questi mesi sono in scadenza i bandi per gli hydrogen valley il ministero ha istituito e ha emanato questi bandi e quindi a breve in Italia ci sarà la costruzione di in varie regioni distretti nati per la produzione di idrogeno produzione di idrogeno assolutamente verde assolutamente prodotto con fonti rinnovabili quindi vedremo una grande diffusione fortemente aiutata da tutti provenienti all'Europa del PNRED per una disseminazione totale non soltanto con la rinnovabili questo è per un aspetto industriale ma in tutti i settori della società per l'introduzione di fonti di energie rinnovabili in maniera da poter giustificare la produzione di idrogeno laddove avremmo estremi sovrapplus di produzione e quindi il costo relativo dell'idrogeno nonostante il consenso tecnologico immaginate io energete solare potenza elettrica elettronizzatore benissimo lo uso subito l'idrogeno no lo devo comprimere a 700 900 W e poi finalmente lo divido su motori che comunque lo danno efficienza al 100% è un processo veramente poco sensato che ha senso solo sia una grande abbondanza di disponibilità di energia elettrica quindi disseminiamo il mondo di sistemi rinnovabili e speriamo che i buoni tornino quindi questi sono le nuove degli investimenti immaginiamo una finanziaria sta un poco più della metà di questi soldi e tutto questo verrà appunto fornito con azioni dirette sulla nazione concentriamoci concentrandoci sulla biomassa adesso vi racconterò di alcune tecnologie quelle più semplici quelle più immediatamente affluibili per l'utilizzo energetico delle biomassa di tutto questo residuo che da un punto di vista finanziario economico bancario ha esattamente la stessa valenza di un pozzo per lo libero o di un campo sovrotario invece oggi è una restata questio per non utilizzarlo ma di conferirlo in scarica questi sistemi di gassificazione che adesso vi scriverò a una donna veloce richiedono che la biomassa non sia attuale un pochettino diciamo non è che posso utilizzare un albero o una vera o una foglia ma la biomassa va trattata un pochettino come la raffinazione del petrolio per cui deve essere sicca di avere una taglia compresa tra un centipete e tre centipete e di avere una certa densità di materiale non deve essere troppo leggero al di sopra di anche 180 kg su un metro cubo che cosa succede se questa biomassa viene inserita all'interno di un riattore in cui al centro del quale immaginate che questo sia veramente un sistema che ha questa forma dove la biomassa cade dall'alto al centro viene attivata una combustione però sopra c'è un battente di biomassa adesso chiaramente vanno le ceneri che cosa succede il calore di combustione se io sono bravo a dosare l'aria mi può far raggiungere temperature superiore ai mille gradi che non fanno altro che termodistruggere i legami molecolari della biomassa termodistruggere questi legami vuol dire trasformare una massa solida in frammenti piccolini che ricombinandosi formano una miscela di gas combustibile un gas però che non è sofisticato visto che le temperature sono superiore i mille gradi io veramente distruggono finalmente questo carboidrato lo hanno contenuto nella biomassa anche qui vi voglio far notare dei paralleli carboidrato per muoverci noi come motori idrocarbuno quando ci passano milioni di anni è stata sotto terra ma la radice è la medesima più o meno qualche ossigeno degli arboidrati che i mille gradi non c'è quindi cosa succede si produce una miscela di gas costituita prevalentemente l'idrogeno monossio di carbonio metano e poi alcuni residui di combustione che è il mazzaro del mare questo gas è sporco ma può essere dato a gruppi con generatori come quelli che ho mostrato qua questo è un contenere da 20 litro in cui praticamente è possibile fare in pieno letteralmente fare in pieno non utilizzando benzina gasolio eccetera ma questo materiale che questo per un esempio può elettare in questo aspetto quindi spacci di potatura foglie mucce tutto quello che non è costituito da metalli di minerali o metri tutto quanto può essere trasformato in combustibile del motore a combustione interna come ce li riguardiamo per la produzione continua di energia da una fonte assolutamente rinnovabile visto che la CO2 che viene emessa dalla combustione di questo gas è la medesima che verrebbe emessa se io questo materiale lo lascio a terra e la natura fa il suo corso quindi ci andiamo a mettere proprio in un ciclo green immaginiamo che l'energia solare viene convertita dagli alberi in un'energia che grazie all'acqua e alla CO2 che l'albero assolve questa CO2 e quest'acqua diventano zuccheri diventano carboidrati diventano legno diventano tutto quello che è la biomassa la biomassa invece invece di mangiarla in realtà più di inizia ce la mangiamo è uno scarto che buttiamo in questa macchina ce la mangiamo lo utilizziamo lo scarto che buttiamo nella macchina questo scarto una volta sottoposto al processo rilascia la CO2 che ricomincia questo ciclo addirittura il vantaggio di questo processo è che le ceneri stesse e gli scarti di questo processo sono la concentrazione di sostanze nutritive che la pianta ha assolutamente durante la sua vita quindi sono un perfetto ammendante che chiude il cerchio in punta di piedi nei confronti del mio sistema ora è chiaro che accoppiando questo sistema con un elettronizzatore noi abbiamo una conversione diretta tra virgolette c'è tutta una catena di trasformazione di biomassa e di idrogeno perché la biomassa diventa potenza elettrica la potenza elettrica diventa potenza notata dell'elettronizzatore e l'elettronizzatore produce idrogeno e ossigeno invece di comparire le discariche certamente è una soluzione questo tipo di soluzione viene chiamata power to gas ed è su questo tipo di soluzione che si sta lavorando oggi nella costruzione di queste idrogen valley le idrogen valley quindi saranno costituite da campi fotovoltaici depositi di biomassa non da discarica ma pretrattata come se fosse con lo stesso rispetto di marini in gasolico o di benzina anzi più rispetto questo che viene proprio dalla natura diretta pesca e viene prodotto viene prodotto idrogeno in questo modo si può avere certamente idrogeno per usi finali non usi armi utilità eccetera ma anche può essere rimesso nella rete del gas ci sono dei sistemi relativi alla alla catalisi insieme alla CO2 del metano e della CO2 come l'idrogeno per ottenere metano un metano sintetico immaginate la CO2 viene sequestrato l'idrogeno è green e ottene del metano per ottenerlo non ho estratto niente ho fatto una catalisi clinica tra un gas e un idrogeno di quanto qui l'esempio della campagna andrò veloce queste sono slide di numeri immaginiamo che noi abbiamo praticamente come 384.395 età di boschi che richiedono chiaramente le manutenzioni dalla gestione annuale di questi boschi c'è tutta questa quantità in tonnellate in migliaia di tonnellate di biomasse che variamente viene espantita e distinta a volte in maniera famigerata e venendoci famosi delle basiche mannobili per la distruzione del campo e delle riduzioni se invece noi avessimo una conversione soltanto di questa parte una piccola parte 33.750 tonnellate otterremmo di biomasse attraverso questo sistema di conversione appunto all'energia c'è di otteneremo 135.000 metri cubi di metallo e di biologio importunale perché anzi no scusate avremo di sigas da cui avremo 26.000 megawattora quindi 26 gigawattora che ci darebbe circa 500 tonnellate di ogni anno soltanto per riscarti ora soltanto questo renderebbe dipendente delle tratte a scartamento ridotto insomma attraverso un kilo ogni mezzo chilometri per ogni mezzo chilometri un kilo ogni 400 chilometri non sto andando a memoria per cui ne abbiamo una certa indipendenza quantomeno delle terreni soltanto con questo sistema è chiaro che mettendo insieme vari sistemi per la cessione dell'acqua attraverso fonti innovabili noi sicuramente andremo e daremo senso a questa transizione energetica e riusciremo a cancellare la necessità di rinforciare fossili per poter avere la nostra società questo problema è un po' finito all'inizio di rinforciare di rinforciare di rinforciare come al solito una domanda polemica se non c'è gusto allora il progetto mi piace moltissimo domanda è qual è il consumo e il costo energetico per produrre questi bellissimi elettronizzatori insieme a sistema di pironesi di rinforzare rinforzare storicamente come hai detto le vecchie celle fotovoltaiche non compensavano il costo quelle per cui producevano adesso diciamo 5 anni 2-2 anni so che sono le celle cinesi che sono altamente inquinanti in produzione quelle fatte in maniera un po' più civile sono 5 anni per me per esempio qual è il caso di questo ciclo allora per produrre idrogeno la fonte di più labili diciamo i sistemi alcalini attuali impiedono 55 kWh parla della buona pratica insomma c'è chi fa meglio che fa meglio 55 kWh su kg di idrogeno quindi quel kg di idrogeno di per sé ne possiederà nominari 33,3 di kWh ed è facile capire perché io non posso dare un elettronizzatore 33,3 kWh in umida a 33 kWh di idrogeno la nostra umanità non fa macchina di efficienza quindi nella migliore pratica industriale di elettronizzatore industriale noi diamo 55 noi ci troviamo un chilo che ne contiene 33 quindi e poi quei 33 bruciati utilizzati in una cellula a combustibile queste batterie che si ricaricano a gas o utilizzate in un motore a combustione interna a idrogeno possono avere efficienze in queste macchine che non possono superare non siamo riusciti ancora a farle superare il 55% quindi spendendole 55% all'origine e potremmo sfruttare il 55% di 33 sarebbe poco più che 18 kWh da 55 che l'abbiamo pagato quindi ma la stessa cosa una volta che noi abbiamo prodotto l'idrogeno io ho fatto il conto che quell'idrogeno quindi 33 kWh sono subito disponibili in realtà non è così perché quell'idrogeno deve essere compresso deve essere neumidificato deve essere compresso lo standard di compressione prima era 220 bar poi 350 bar poi 700 bar oggi si parla di 900 bar macchine che fanno questa compressione consumano più dell'energia che richiede all'idrogeno per essere prodotto o quantomeno è paritetico quindi quell'energia dopo che io vado a utilizzarla dimenzio ulteriormente e allora perché stiamo facendo questo perché non abbiamo un'altra via di uscita non ce l'abbiamo abbiamo il nucleare e là si apre un mondo e abbiamo il fossile che ci sta letteralmente distruggendo il pianeta trasformandolo in una serra in una serra incandescente che l'estate scorsa è stato terribile questo inverno già sta finendo già sta finendo ha fatto freddo 5 giorni dobbiamo interromperlo e allora che cosa abbiamo abbiamo un unico un unico processo uno solo l'elettrolisi con dei pannelli solari scadenti dei sistemi di combustione di biomassa da 4 soldi al cuore e delle fuel cell non industrializzate stiamo disseminando il mondo rendendo necessario sviluppare questa tecnologia perché se non si crea un'urgenza non ci andremo quindi si parla per certi ragionamenti di coprire l'Italia e l'Europa di sistemi energetici rinnovabili averne talmente tanta di giorno da dove produrre necessariamente idroge aver vietato la combustione per la mobilità di quella di combustione interna e vediamo se li miglioriamo come hanno fatto con i pannelli solari tutta questa catena di macchine che si sono state sviluppate ma non come di rinnovare elettrolizzatori con l'efficienza di crisura motori a combustione interna con idrogeno fuorcele oggi sulle membrane che si è fatto tre tipi di membrane cioè la voglia di lavoro che c'è da fare e tutto quanto che è questo comparto su cui poi da 40 anni se ne occupano Francesco Cevani in una nicchia ma finalmente se ne sente parlare di idrogeno quindi è come se noi ci trovassimo con un retroterra culturale di aver studiato la materia adesso finalmente se ne parla anche se non negli aspetti che ci hanno sempre incuriosito ma meno male che se ne parli quindi sì le inefficienze fanno pena ma dobbiamo affrontare questa transizione che è soprattutto la transizione di tecnica di scienza di impegno di perseveranza e di disponibilità di PNR che non vengono deviati in cose poco inibili perché poco ci entrano con questi temi relativi assoluti di custodianità grazie 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 Claudio allora buongiorno sono Andrea Principe sono il direttore generale della E2 Energia di Foligno E2 fa parte di un raggruppamento di piccole e medie imprese che ha come missione lo sviluppo di progetti e impianti in ambito energia rinnovabile energia rinnovabile è intesa a 360 gradi quindi con tutto ciò che contribuisce alla decarbonizzazione quindi sia progetto e costruzione di nuovi impianti di vario tipo dal fotovoltaico all'eolico e all'idrogeno ma anche legato all'efficienza energetica diciamo a mio avviso la prima fonte rinnovabile è sicuramente il risparmio quindi fare efficienza è probabilmente la prima fonte rinnovabile allora e due diciamo abbiamo una pipeline di progetti di diversa taglia quindi già costruiti oppure in fase di autorizzazione e oppure in fase di progetto in ambito eolico parliamo di 500 megawatt di picco fotovoltaico siamo arrivati a 3000 storage 1000 green idrogeno quindi mi riallaccio un po' all'intervento precedente stiamo sviluppando 50 megawatt e poi diciamo altre forme che contribuiscono diciamo al risparmio quindi biometano biogas e forme similari quindi come azienda noi siamo in grado di gestire dalla proprio dalla fase zero iniziale di individuazione di un terreno di una plant fino allo sviluppo all'autorizzazione la costruzione e la manutenzione dell'impianto i principali clienti ai quali diciamo ci affacciamo sono grossi EPC in ambito energia oppure grossi fondi di investimento privati che stanno in questo momento diciamo investendo numerosi denari sul discorso energie rinnovabili quindi per chi ha vissuto un po' il discorso delle energie rinnovabili nel 2010 2011 quando tutto si è legato purtroppo al discorso di incentivi in questo momento la situazione è diversa adesso sono diciamo i privati che stanno invece investendo direttamente nella costruzione degli impianti privati basti vedere qui diciamo parliamo anche di Ikea parliamo di Amazon quindi oltre ai nomi magari già più noti in ambito energetico anche i nomi diciamo che invece apparentemente sono fuori parlo appunto di Amazon parlo di se vogliamo estendere un po' il discorso se vogliamo parlare di nucleare pulito ad esempio ci sono anche Google che sta investendo direttamente in queste tecnologie quindi è una transizione di cui parlava il collega nel intervento precedente diciamo è una transizione che è partita c'è una necessità un bisogno e quindi è partita indipendentemente dagli incentivi che chiaramente in parte ci sono provengono nel caso nostro anche dalla comunità europea ma comunque c'è un forte interesse dai privati e per tornare un po' al tema questo del convegno diciamo fatta questa introduzione un po' sulle attività ho focalizzato il convegno quindi il tema legato un po' alla pace a io vengo poi da Sisi quindi a Sisi nel vento anche legato come terra ho portato un case history di un progetto che stiamo sviluppando con Arijai che è una ONG che si trova in Gerusalemme praticamente è un istituto di ricerca che si trova in Gerusalemme che ha come obiettivo lo sviluppo sostenibile di attività tecnologie energie nei terreni della Palestina terreni principalmente appartenenti alla custodia quindi loro favoriscono tutto quello che è l'inserimento di nuove tecnologie buone pratiche per portare alla sicurezza alimentare far fronte al cambiamento climatico quindi sempre il discorso della CO2 promuovere l'autosufficienza introdurre diciamo metodi più efficienti per l'utilizzo della conservazione delle risorse e quindi promuovere anche l'utilizzo di energie rinnovabili quindi ho voluto portare questo esempio perché tra le varie tecnologie che stiamo affrontando diciamo questa è una tecnologia che ha anche un aspetto un po' chiaramente democratico e sociale immagino parecchi di voi hanno sentito parlare di agrivoltaico agrivoltaico è una nuova forma di impiantazione di impianti di energie rinnovabili insieme a combinati all'agricoltura allora nasce per lo scopo di ottimizzare l'utilizzo dei terreni quindi e chiaramente dare valore aggiunto anche all'agricoltura stessa quindi il concetto di base è che dove andiamo a fare delle semine ci mettiamo sopra dei pannelli fotocontagici che possono essere fissi possono essere posizionati su inseguitori solari che creano una sorta di ombreggiamento quindi allo stesso tempo però c'è produzione agricola e produzione di energia rinnovabile e diciamo apparentemente la soluzione sembra banale ma in realtà insomma è un po' più diciamo complessa di quello che appare perché si va a creare una sinergia tra le culture e la produzione di energia allora ci sono delle culture come ad esempio i kiwi che l'ombra ne favorisce lo sviluppo e la produzione altre culture invece hanno bisogno di iniziare ad imparare a convivere invece con l'energia rinnovabile che è sopra quindi è una frontiera dove sicuramente la parte che proviene dall'agraria insieme alla parte che proviene dall'energia stanno dialogando per creare anche degli algoritmi dell'ombreggiamento ad esempio quindi far sì che i pannelli si muovano e vadano a creare l'ombra in funzione anche di quello che la cultura sottostante in questo determinato momento sta chiedendo e chiaramente anche alla posizione del sole perché poi è tutto corredato vediamo una nuova frontiera se ne sta diciamo in Italia ne stiamo portando in autorizzazione molti impianti di questa tecnologia diciamo innovativa ecco nel caso che avevo citato della Playa Research Institute di Gerusalemme diciamo stanno cercando di portare questo progetto nelle zone deserte quindi dove non c'è diciamo attività oppure c'è carenza di acqua quindi il concetto è creiamo un impianto di produzione di energia creiamo sotto una cultura l'acqua potrebbe derivare anche dalla condensazione di notte che c'è nei pannelli e chiaramente di notte il deserto è comunque umido e quindi c'è una parte di condensazione in questa foto si vede male ma ci sono dei tubi tipo di tubi gialli che portano l'acqua in fase di condensazione dal pannello alla cultura chiaramente c'è un aspetto sociale perché in queste zone andiamo a portare energia andiamo a portare la possibilità di creare valore andiamo a portare un'agricoltura in zone dove differentemente avrebbero diciamo problematiche nello svilupparsi quindi concludendo e facciamo questo agrivoltaico appunto è una nuova frontiera delle energie rinnovabili che viene abbinato anche alla produzione di idrogeno come si parlava prima e in questo caso quindi come il tema del convegno portato nelle terre della Palestina chiaramente anche un aspetto sociale e democratico delle energie rinnovabili grazie qualche domanda al ruolo domande per allora complimenti qualcosa di veramente innovativo grazie anche considerando le posizioni no ok complimenti qualcosa di buono in un posto non facile il bilancio totale di sistema perché questi oggetti hanno un costo molto piccolo cioè i terroi portare il nostro investment quanti anni sono quindi fatto una stima o meno allora chiaramente è un ROI legato anche al quantitativo di pannelli che andiamo a installare quindi con le efficienze abbastanza alte che ha il pannello proprio voltaico quindi che abbiamo raggiunto e in alcuni casi stiamo salendo stiamo salendo oltre il 20 quindi l'impianto di per se stesso in 7-8 anni riesce ad arrivare al break even ma il ROI va visto nel complesso cioè abbinandoci anche la parte agricola quindi ho fatto l'esempio delle culture di figli che aumentano la produzione in caso di ombra quindi se andiamo a fare il bilancio diciamo globale in alcuni casi è molto migliorativo diciamo anche negli 8 anni comunque è un bel passato è un salto è un salto grazie allora qui c'è un momento che il moderatore chiede aiuto un po' alla sala perché noi abbiamo questo programma gli interventi che abbiamo oggi abbiamo Francesco Celani ci deve parlare di aggiornamenti di sviluppi o metodologie semplificate impulsi elettrici per provocare il fenomeno ERN LENDRE che ha a livello macroscopico che è una relazione diciamo che richiede anche tempo e noi siamo al 12.23 abbiamo in tutto 40 minuti perché l'una circa dobbiamo lasciare la sala ed è una relazione molto tecnica poi abbiamo anche Assia Celani che ha una relazione tecnica di biomedicina sul ruolo delle proteine Fbox FK1 e FK2 puoi spiegare anche perché è un punto di questo e abbiamo anche Antonio Sciortino che ci ha raggiunto che invece parlava di un tema che era armonioso con quei precedenti cioè la pianificazione e la programmazione del territorio antiporpedelice indispensabile per l'organizzazione degli interventi ora io farei in questa maniera se siete d'accordo faccio venire un attimo Celani senza slide senza niente vi faccio parlare 10 minuti di quello che poi nel pomeriggio ci dirà con più calma e con più serenità e la relazione di Assia penso che se facciamo in tempo dopo il shortino oppure dopo il pomeriggio e quindi chiamo Francesco a venire un attimo qui allora baserò un abbraccio la relazione che il pomeriggio vi scriverò con più dettagli è basato sul fatto che finalmente dopo oltre 34 anni trazie a una serie di fortunate coincidenze e altre cose si arruciglia di mostrare a livello a livello macroscopico e di laboratorio che esistono fenomeni in cui c'è un eccesso di energia maggiore di quella immessa in particolare in particolare sistemi basati su materiali specifici a basso costo basso costo e semplici questo metodo è stato sviluppato anche grazie ad alcuni suggerimenti operativi capace dell'industria carpeggio che è fondatore dell'antropogeno istituto e tra l'altro è anche poterlo del ebay di certun uno che mi ha fortemente sollecitato a sviluppare delle tecniche semplici per dimostrare la resistenza in questi tre anni dopo un certo tempo ci siamo riusciti e ho fatto la prima relazione sociale nell'ambito della comunità europea e più pronto mi ha seguitato perché fa parte dell'area per ora è seguita io il 95% di quello che ho detto a mia nuova lo mi ho oggi o meglio essenzialmente è basato sul fatto che la dimostrazione di questi effetti anomali sono semplicate è stata fatta basando un metodo molto indicivo appunto elementare cioè teniamo un anomalo e un certo valore che avviene dopo un tempo lungo un mese o due mesi di lavoro è un certo valore ad esempio uguale due ora questo fenomeno quando c'è un errore che si stella che è immediato perché che valutano tutto io riesco a portarlo al fattore otto quindi potremmo un fattore di quattro a tre da due a otto in qualche modo di quattro di quattro di quattro dopo decido decido da otto portarlo a due e continuo a lavorare a due poi di quattro ad otto non quello portato con pochi ore o minuti come era il argomento questa riducenza ma giorni in che decido di quattro a due posso modulare il sistema questo fatto la prima volta che avviene l'effettivo di ricerca estremamente dal nome di che si ce l'aveva si basava sui materiali a tantissimo costo pallati o materiale strategico quindi con tutti i limiti come uno dei materiali strategici che si parlavano perché si parlavano di l'inizio e noi del 2011 abbiamo deciso di andare verso materiali a basso costo la costa costa una linea di ram in pen certamente a basso costo di fiume che va in tasca delle monite da un euro ovvero la parte del centro ovviamente possono usare il modificato o intramidente ma chiunque di piante decide può rimanere risponditi non per incidare il sistema grazie alle pressioni dell'arpeggio consente più di impulsi particolarmente complessi che diceva l'arpeggio che non c'è sale quindi è demotario ma usando soltanto la rete 50S che ci dice per cercare l'arpeggio controllare l'emotizia ma di poco la stessa rete viene appunto il fermatore viene spassato un dietro un può scegliere il impulso positivo oppure l'evento l'impulso negativo perché la macchina è così che ci ha la potenza di eccesso e carta l'impulso medico di di tiro o qualche m sottorrendo che mi sbagli quello che si dico è come il giro zero rimane comunque è una prova elementare stupida che va bene alla signora maglia ma quello che serve per il tipo di energia che è stata pensata segnata dai tre scienziati del parca roda come utile per cercare di rinunco di ottenere un'altra verità recenziale da martin pregio per scala e post per fulgare l'antenne dell'am e stipend grossi una vicenda di muta interna incende spesso pessime per utili mai dei difficili di fulgare ovviamente c'è un potanio generale positivo dimostrabile anche se per ora con questo luco è limitato quindi interesse accademico ci sono tutte le precondizioni che passare da un giocattolo di laboratorio a qualcosa più utile per tutta la limitata grazie grazie allora buongiorno faccio una bellissima presentazione grazie a dottor pace che dà questa opportunità grazie grazie al dottor calabio pace che mi dà questa opportunità sono presidente dell'IFA internazionale fluig e associazione nel 1993 sono stato promotore per le associazioni tra Italia Spagna e Polonia il titolo del nostro incontro acqua ed energia non nascondo che mi genera acqua pace ed energia giusto ti dà lo scuso quindi ti dà lo scuso perché non vengono dimenticare assolutamente mi genera diciamo come dire emozione perché nel 1993 abbiamo presentato il progetto acqua per lo sviluppo a Santo Giovanni Paolo II e mio figlio ha come dire posto questo libro questo progetto a Santo Padre e si parlava di pace perché in quel periodo diciamo io ritengo di essere stato una persona che ha sollecitato la segretaria di Stato del Vaticano anche appunto grazie a alcuni lavori che stavo conducendo con lo Stato della della Polonia nella privatizzazione delle industrie allora e quindi abbiamo sollecitato l'attenzione del ciclo integrato dell'acqua cioè del bene supremo che il nostro pianeta ha e quindi di conseguenza di umani il mio cammino velocemente cerco di sentitizzare è stato quello di riunire gli studi di progettazione italiani spagnoli e della Polonia intorno a questa problematica quindi all'acqua ricordo che negli incontri fatti con la segreteria e anche ovviamente i religiosi che poi mi hanno portato con i francescani con i domeniani con i vari ordini in sostanza a discutere di questo tema che è l'acqua ahimè purtroppo tante volte i religiosi mi hanno detto che nel futuro le guerre si faranno per l'acqua appositamente e questo mi suscitava una perplessità e anche una difficoltà essendo io di formazione tecnica scientifica e inventore perché ho due brevetti riconosciuti nel mondo fra cui uno anche insieme all'ingegnere Domenico Cerillo che prima ha parlato e ringrazio e quindi siamo stati riconosciuti negli Stati Uniti dalla nostra area dai vari continenti e questi brevetti riguardano proprio il tema dell'acqua quindi la razionalizzazione dell'elemento noi da italiani abbiamo contribuito quindi a sviluppare nuovi modelli progettuati e anche delle tecnologie che si chiamano Fluid Control System adesso non sto qui a dirle tutte che appunto vanno se inserite in modo opportuno a razionalizzare questo elemento principe quindi l'attività fatta dal 93 a oggi è stata l'assicuro intensa è stata tutto campo e trasversale perché oltre a fare questo abbiamo lavorato con i vari ministeri italiani che ringrazio perché effettivamente devo dire che allora da giovani adesso non più tanto giovani devo dire che le varie domande che noi abbiamo presentato sarà perché le abbiamo fatte ritengo opportunamente fatte bene noi siamo stati finanziati dallo Stato quindi io devo ringraziare lo Stato italiano devo un po' meno ringraziare invece l'attività diciamo sinergica che non c'è stata fra società di ingegneria imprese e industrie quello che io cerco di sollecitare appunto in Italia è una maggiore coerenza una maggiore unione integrazione fra questi tre parametri principali la finanza non ultimo che sarebbe l'economia ovviamente il denaro che si muove intorno e che è il motore diciamo la benzina per far muovere queste attività umane industriali non si trova facilmente ad essere erogato se non c'è questa attività di coerenza di unione di integrazione è questo su cui io ritengo se mi perlittivo un po' politicamente diciamo dobbiamo lavorare al di là del fatto di annunciare appunto queste tematiche in ultimo permettetemi l'energia l'energia è legata fortemente all'acqua sono convinto che nel futuro vi realaccio al discorso che ha fatto l'ingegner Cirillo e anche al professor Cerani l'idrogeno è parte fondamentale dell'acqua sono sicuro che nel futuro la molecola dell'acqua ci darà come dire delle sorprese a mio avviso contiene una quantità di energia diciamo illimitata come tutti noi sappiamo però la cosa interessante per noi umani sarà quello di approfondire queste tematiche che stanno di ricerca scientifica che sta conducendo il professor Cerani e anche l'ingegner Cirillo a cercare di essere più efficienti in questa separazione tra idrogeno e ossigeno non dimentichiamo che l'ossigeno è che non è da poco perché in quel caso non verrebbe estratto dall'atmosfera ma dalla stessa elemento dell'acqua penso di aver fatto una terribissima sintesi grazie a voi allora una domanda bene buonasera a tutti ringrazio il dottor Pace come dicevo per l'occasione che mi ha dato di presentare un aspetto molto importante della vita di tutti i giorni che purtroppo ci limita perché la pubblica amministrazione che dovrebbe essere centrale nella gestione della pianificazione della successiva di rinnovazione del territorio tende ad essere latente e a non dare seguito all'intervento iniziamo con il dire che i piani e i programmi definiscono a seguito dell'analisi dello studio delle caratteristiche geomorfologiche culturali e collettive economiche e sociali gli obiettivi che assicurano lo sviluppo e la inclusione sociale e le accontabilità di un determinato territorio al fine di raggiungere gli obiettivi definiti nei pianeti e i programmi gli stessi agiscono attraverso interventi di carattere materiale e immateriale al fine di valorizzare le risorse sociali e ambientali e da garantire la sicurezza delle popolazioni dai rischi derivanti dai metri dalla metri la pianificazione e la programmazione ha dei caratteri che deve porre come presupposti l'analisi e lo studio delle caratteristiche geororfologiche sociali economiche e produttive nel territorio al fine di dare seguito a processi ascendenti e non discendenti come per esempio è il PNRR di cui tanti si illuminano d'immenso quando viene nominato ma ahimè purtroppo il PNRR non tiene conto degli aspetti che caratterizzano il territorio e quindi impone dall'alto degli interventi che spesso vanno in competizione o in contrasto con gli interessi locali quindi la corretta attuazione della pianificazione e della programmazione viene attraverso la realizzazione e la realizzazione di interventi materiali e interventi immateriali gli interventi immateriali sono la realizzazione di infrastrutture e di opere pubbliche e purtroppo oggigiorno veniamo da vent'anni di inefficienza sotto questo punto di vista le nostre infrastrutture non solo sono carenti negli aspetti della manutenzione ordinaria e straordinaria e di ponte di Genova ma anche purtroppo non abbiamo dato seguito agli interventi strutturali importanti che la nostra nazione ha assolutamente necessità di realizzare un altro di aspetti invece legati agli interventi immateriali vengono imposti dei vincoli delle restrizioni di carattere tecnico attraverso le norme tecniche di attuazione per esempio limiti ad edificabilità la pianificazione come dicevo può essere di due tipi una discendente di un ascendente quella discendente prevede che i vari organi extraterritoriali pianificano il territorio senza tener conto delle esigenze locali quella ascendente invece parte dal rilevamento dei dati che si rilevano sul territorio quindi parte dai comuni dai municipi per poi essere assemblati su territori di anche e poi imposti ai territori stessi come vedete il quadro della situazione per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche è abbastanza importante nel senso abbiamo tutta una serie di strutture che tendono a incorre e non a recepire l'input dai clienti locali i piani e i programmi quindi si nutrono dei dati provenienti dal territorio gli aspetti storici sono fondamentali per capire quali sono stati gli aspetti e le pressioni antropiche generate nel tempo con questa adottazione quindi delle pressioni antropiche tra le caratteristiche geomorfologiche economiche produttive culturali sociali ambientali del territorio sono fondamentali affine di poter predisporre un piano che sia che operi in sinergia con il territorio e non che vada in contrasto con questo poi l'individuazione la quantificazione il monitoraggio delle pubblicità e dei degrati che insistono sul territorio la mancanza dei dati che purtroppo è un grave un gravissimo problema a cui purtroppo tutti i giorni noi che pianifichiamo il territorio non lo faccio per gli aspetti idrogeologici su tutta l'Italia centrale visto che sono un tecnico della pubblica amministrazione purtroppo tendono ad essere a porre i piani e i programmi in una condizione più fallimentare e addirittura tendono poi a generare i gradi di sesto il piano regolatore generale è il principale strumento urbanistico che il comune ha per operare che opera sul territorio imponendo vincoli o rilasciando concessioni e devo aprire una parentesi ci sono altre pianificazioni sovracomunali che impongono ai comuni di rispetto per esempio attraverso i piani pesaggistici la regione Lazio impone dei vincoli in ogni digitabilità oppure per esempio la comunità europea definisce che sono degli ambiti per proteggere l'ambiente il piano regolatore hanno delle caratteristiche troppo statiche da sempre oggi invece con le nuove tecnologie riusciamo a ottenere a poter portare una dinamicità nella pianificazione attraverso il monitoraggio costante dello stato di attuazione degli interventi pianificati e programmati le nuove tecnologie sono sistema di rilevamento e monitoraggio del territorio da cui poi derivano i dati da analizzare sono satelliti i droni per rilevamento e sensori ci sono fibre ottiche quindi non puntiformi oppure sensori puntiformi che vedono per esempio la qualità dell'aria poi nei sistemi di analisi e di elaborazione di dati geografici e alfanumerici e la riproduzione delle cartografie inerenti e degli elaborati grafici sono dei pacchetti GIS sistemi geografici informatizzati che permettono di legare il dato geografico a un dato numerico o alfanumerico su cui si possono fare delle elaborazioni e quindi poter far girare degli algoritmi o realizzare degli algoritmi poi intorno al sistema ma al fine di poter avere dei risultati che poi vedremo nelle prossime slide allora come dicevo il piano nazionale di ripresa di esilienza ha caratteristiche discendenti cioè la comunità europea attraverso la pianificazione dello Stato ha adottato ha approvato ha adottato il piano economico finanziario che in realtà non è un piano ma pensi una serie di obiettivi di carattere ideologico definiti da euro-bullocrati che non conoscono le caratteristiche e le esigenze del territorio le attuali crisi energetiche idrauliche sociali produttive edilizie devono essere affrontate attraverso la pianificazione e la successiva programmazione ascendente quindi che viene dal territorio e non imposta dall'alto dagli organi extraterritoriali a cui deve eseguire l'attuazione degli interventi all'attuazione degli interventi un costante monitoraggio per la realizzazione della loro successiva gestione attraverso una forte decisazione tecnico-amministrativa della pubblica amministrazione centrale e periferica questo è un punto fondamentale purtroppo la pubblica amministrazione oggi è incapace sia di pianificare che di dare seguito all'attuazione degli interventi addirittura la frammentazione in molteplici governi del territorio di regioni ha posto in essere una sorta di disarticolazione dell'azione legata alla pianificazione e quindi alla programmazione degli interventi e alla votazione degli stessi quindi la centralità della pubblica amministrazione è fondamentale la pubblica amministrazione quindi deve tornare ad essere centrale per la predisposizione di provvedimenti atti a finanziare il dover atti e finalizzati a governare il territorio con processi tecnico-amministrativi innovativi e dinamici quindi occorre che la pubblica amministrazione si riappropri e la propria capacità di progettare di realizzare di monitorare e di attuare gli interventi al fine di non creare disfunzioni inefficienze e dei gravi il monitoraggio quindi del territorio è fondamentale bisogna acquisire conoscenze e dati che vengono dal territorio al fine di poter pianificare al meglio gli interventi futuri per portare benessere non inquinare e altro e quindi gli studi analisi ed elaborazioni dei dati acquisiti per la redazione dei piani per lo sviluppo integrato e multidisciplinare del territorio sono fondamentali l'attuazione poi degli interventi è questa importantissima e soprattutto monitorare quello che è l'attuazione delle norme tecniche al fine di poter poi ricalibrare quelle che sono le disposizioni generate magari da provvedimenti inappropriati per un determinato territorio perché monitoraggio della nostra attuazione degli interventi strutturali fasi di realizzazione ma non solo ma anche nelle successive fasi quelle che sono legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle altre che purtroppo ahimè non vengono fatte monitoraggio poi per la manutenzione come dicevo delle opere pubbliche e il monitoraggio dei programmi durante l'attuazione di se stessi qui abbiamo una serie di esempi di studi che ho portato avanti sulle unità locali definite dall'istat e ci sono una serie di confronti unità locali sono praticamente le aziende che sono sul territorio qui vediamo nella prima cartografia dell'Italia tutta in rosso incidenze percentuali tra il 2018 e il 2019 e la seconda cartina dell'Italia invece ci sono il 2019 e il 2020 come vedete c'è una ripresa delle unità locali e poi invece la terza è il 2018 2020 e comunque da questa cartografia si evidenzia che abbiamo perso il paziente in questi tre anni sarebbe curioso vedere ma i dati non ci sono ancora quelli che sono gli aspetti legati alle unità locali tra il 2020 2021 e il 2021 e il 2022 quindi ci sono le cartografie legate agli eventi ai lavori anche in questo caso la prospettiva insomma la realtà dei dati parla chiaro troppo abbiamo perso addetti ai lavori quindi operai impiegati su quasi tutto il territorio di un'azione probabilmente se come vedete nelle seconde ipotografie al sud e nella Sicilia nello specifico ci sono meno piazze rosse probabilmente forse perché c'è poco lavoro e quindi in conseguenza quello che già c'è non è stato intaccato qui ci sono l'analisi sempre dei dati dell'istat legati agli distretti industriali definiti sempre dall'istat purtroppo i dati sono molto vecchi risalgono al 2011 la prima definizione dei distretti industriali era stata fatta nel 2011 poi c'è stato un aggiornamento nel 2011 ma ad oggi credo che questa cartografia sia ormai non più attuale questa invece è un'analisi che io ho fatto con la distituzione su tutto il territorio nazionale delle aree in crisi complesse sono circa 20 e riguardano anche il territorio interno adesso passiamo a quelle che sono gli aspetti legati alla pluriometria capite che da questi dati il pianificatore può incidere in modo positivo perché guardando i dati si possono determinare gli interventi a fine di carattere strutturale e non strutturale a fine di poter mitigare le problematiche e le crisi che attaragnano i territori questo è la sono gli scatti percentuali medi delle bibliometrie tra aprile 2022 e la media tra aprile 1981 e 2010 questo riguarda il maggio come vedete la prima cartografia c'è una sorta come posso dire una carenza di pioggia su quasi tutta l'Italia nella seconda cartografia si evidenziano invece delle carenze strutturali legate al depauperamento dei ghiacciai dell'arco alpino e quindi le carenze biometriche sono legate al rettamento al nord e al centro italiano questo riguarda settembre 2021 e aprile 2022 vede sempre settembre e aprile 2022 legate allo stesso periodo di 1910 stessa cosa a quest'anno a quella come vedete il sud tende ad avere meno ad essere meno in crisi ma in quanto almeno purtroppo è già carente di acqua di suo quindi forse pensano la crisi delle piogge è meno evidente da questa cartografia queste invece sono le analisi legate agli aspetti di carattere scusate sono molte tavole quindi non ricordo quali sono a nuove la prima cartografia riguarda le perdite per unità allora i valori immessi per unità di popolazione quindi metri cubi di acqua potabile per il suo abitante la seconda cartografia invece riguarda l'incidenza percentuale dei volumi persi questi sono dati che vengono dal territorio e che vengono poi elaborati e inseriti in cartografie che possono dare poi al decisore politico anche che hai anche tecnico prima di tutto quelle che sono le specifiche legate poi agli interventi che si devono attuali in quel determinato contesto territoriale questi invece dovrebbero essere perdite per chilometro metri cubi di perdita per chilometro minare e come vedete anche qui ci sono insomma le specifiche su cui si può si può intervenire per esempio tutta la parte del sud del Lazio della provincia di Roma e le perdite inizie questi sono invece legati all'auto approvvigionamento per comune legate all'agricoltura come vedete ci sono una serie di pubblicità in corso questo invece sono gli aspetti legati alle esigenze d'acqua legate all'industria senza acqua purtroppo non si può fare nulla come senza l'industria un altro aspetto questa invece quest'altra cartografia è stata elaborata sui bacini sotterranei dei corpi urici sotterranei ed è sempre legata agli aspetti agricoli quindi l'attingimento di acqua e anche lì anche qui c'è un aspetto di depau per aumento della risorsa aiutica ahimè è uno spreco ma lo spreco si può allo spreco da seguito attuando una serie di interventi legati all'accumulo della poca pioggia che oggi cade in Italia questi sono sempre legati agli aspetti industriali legati ai distretti industriali sempre definiti dall'istra quello che io ringrazio tutti però volevo fare un appunto velocissimo quello che è importante è che la tecnologia non è il fine ma è il mezzo che permette a noi esseri umani di dare qui ben più per gestire il territorio grazie ancora per la giornata grazie a tutti